Eccoci qua, noi siamo pronti, sono pronti i nostri collegamenti. Vedo Elena Testi e si è alzato un bel vento, sta anche cambiando il tempo. Dalla ventosa Lombardia. Dalla ventosa Lombardia, cominciamo tra poco, pochissimo, abbiamo tante cose a raccontarvi, ovviamente al centro di tutto c'è il coronavirus, vi aggiorniamo, preparatevi con i telefoni, siamo pronti, oggi torna Pregliasco e risponde alle vostre domande. Fra poco cominciamo con Giannini e Mauro Magatti, vi aspetto. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, saluto il pubblico e saluto Alessio Ersinger. Buon pomeriggio. Allora cominciamo subito, cominciamo subito con i nostri collegamenti. Luca Sappino, Protezione Civile a Roma. Sì Tiziana, siamo nella sala stampa della sede operativa della Protezione Civile, il cuore dei tavoli operativi sul coronavirus. In questo momento al piano sopra di noi c'è Giuseppe Conte, che è in riunione con il capo della Protezione Civile Borrelli e si stanno aggiornando sui dati e sulle risposte di governo e regioni. A proposito di dati, ricordiamo che è la Protezione Civile che fa due volte al giorno la conta dei nuovi contagi, dei ricoveri ospedalieri, dato che però viene ovviamente poi superato tra una finestra e l'altra l'aggiornamento ufficiale dagli aggiornamenti dei singoli ospedali, delle singole regioni. Però insomma il dato ufficiale che ha dato poco fa Borrelli qua in Protezione Civile ci parla di 374 contagiati, la maggioranza dei quali assistita in isolamento domiciliare, è un dato che colpisce sempre, sono 209 le persone assistite nel proprio domicilio, 116 quelli ricoverati con sintomi e 36 quelli invece in terapia intensiva. Si sono poi, dopo le parole di Borrelli, aggiunti due nuovi casi in realtà in Toscana. Oggi l'accento nelle comunicazioni della Protezione Civile è stato dato soprattutto su il reperimento dei dispositivi di sicurezza, delle mascherine, dei guanti, perché il governo, di cui la Protezione Civile è organo di Palazzo Chigi, ha istituito una centrale degli acquisti che da stasera provvederà a rifornire le singole regioni di mascherine. Questo per evitare un accaparramento indiscriminato che si avrebbe potuto innescare mettendo le regioni in concorrenza tra loro. Ma insomma è arrivato qui Giuseppe Conte, che ha parlato, ha parlato peraltro ai microfoni di La Sette, ha intervenuto sulla polemica con la regione Marche, che come sapete ha deciso di chiudere le scuole nonostante l'indicazione del governo fosse un'altra, e Conte ha definito questa scelta una scelta pericolosa perché crea confusione. Ha invece voluto spegnere la polemica con il pronto soccorso di Codogno, Conte ha detto che la sua frase non voleva essere polemica ed è stata estrapolata dal contesto. E poi i rapporti con gli altri paesi europei, ha parlato di discriminazioni inaccettabili, quelle fatte ai nostri connazionali, tenuti fuori dalle frontiere o comunque oggetti di discriminazioni, e ha detto che lo sorprende perché il clima invece della riunione che c'è stata ieri sera tra il Ministro Speranza e i suoi omologhi europei era stata di toni cordiali. Questo è quanto per adesso da qua. Tra breve dovrebbe scendere, finita la riunione di aggiornamento con Borrelli, il Presidente Conte per rilasciare ulteriori dichiarazioni. Va bene, ovviamente tu ci chiedi la linea, tra l'altro anche i numeri europei, mentre andiamo in onda stanno cambiando, ne parleremo nel corso della puntata, e voglio andare però in Lombardia perché in Lombardia come sapete c'è il numero maggiore per quanto riguarda l'Italia dei contagiati. Apritemi il collegamento con Elena Testi. Elena. Tiziana, siamo qui a Casal Pusterlengo, mi scuso se alzerò un po' la voce, però qua si è alzato un vento fortissimo e quindi per farmi sentire lo devo sovrastare. Qui siamo al checkpoint numero 9, come lo chiamano. È arrivato l'esercito, come ti dicevo, perché questa è una delle vie secondarie e quindi hanno deciso di broccarla perché alcune persone della zona rossa fuoriuscivano. Quindi sono stati aumentati i controlli, è molto strano perché come vedrai qua intorno a me, Edoardo, chiedo di inquadrarlo, ci sono solo campi e invece quasi a confine le case. Noi abbiamo parlato con alcuni abitanti urlando, si sono affacciati alle finestre, abbiamo chiesto gli umori, quello che succede all'interno della zona rossa, ci hanno detto che la situazione è effettivamente tranquilla, ci sono alcune file ai supermercati, come sapevamo, come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, e che l'attività che svolgono maggiormente è quella di passeggiare, e chiedo a Edoardo sempre di farteli vedere, in questi estrarie che appunto si perdono nei campi e arrivano fino a Codogno e a Casal Pusterlengolo. Ci hanno anche detto che appunto il paese più vuoto, quello dove proprio non c'è nessuno è Codogno, dove sono tutti in casa e evitano proprio di uscire. Accanto a me, ma non posso inquadrartelo per motivi di privacy, c'è un controllo in questo momento, perché c'è chi entra e chi esce dalla zona rossa per motivi di lavoro e sempre che il prefetto dia il nulla osta. Adesso lo ricordiamo. Certo, va bene, grazie Elena. Esatto, proprio così c'è un modulo che devono completare. Dalla Lombardia ci spostiamo in Veneto, e in Veneto per noi c'è Alessandra Borella. Dove ti trovi esattamente Alessandra? Buon pomeriggio Tiziana. Io mi trovo all'interno di una delle strutture termali che ci sono in queste zone, perché forse non lo sanno tutti, ma ai piedi dei Colle Uganei, nei paesi tra Abano, Montegrotto, Galzignano, Battaglia e Teolo, c'è l'area termale più grande d'Europa. Vi do un po' di numeri. Ci sono 90 strutture con le terme, ci sono 11.000 camere d'albergo per 18.000 posti letto, 5.000 sono gli impiegati, quindi i posti di lavoro in questo settore, e 3 milioni i visitatori ogni anno, soprattutto dalla Germania, dall'Austria, dalla Russia, e il giro d'affari è di 350 milioni di euro. Quindi se adesso voi vedete una di queste strutture in cui mi trovo, ce ne sono appunto quasi 100. Che non mi sembra particolarmente frequentate in questo momento, diciamo. Purtroppo no, e infatti più tardi io vi farò vedere che cosa significano tre giorni di psicosi in termini proprio economici di indotto anche in questo settore. Allora, più avanti torniamo anche da Alessandra Borella. Saluto in studio Massimo Giannini, direttore di Radio Capital, ben trovato. Buon pomeriggio. E collegato con noi da Milano il professor Mauro Magatti, sociologo. Ben arrivato, professore. Buongiorno a tutti. Giannini, poi entriamo nel merito anche di altre questioni, però io vorrei partire dalla questione economica. Oggi molti giornali fanno il punto su questo e parlano già dei primi effetti. Quello che ci raccontava la Borella in qualche modo va in questa direzione. Che tipo di contagio economico stiamo vivendo? E quali saranno i danni di questo contagio? Finalmente il governo sta toccando con mano che cosa resterà alla fine di questa epidemia, quando il virus finalmente sarà debellato e speriamo nel più breve tempo possibile e con il minor sacrificio possibile di vite umane. resteranno macerie economiche. Sono macerie globali innanzitutto, perché non dobbiamo dimenticare che tutto parte dalla Cina. La Cina è la fabbrica del mondo, contribuisce per il 17% al PIL globale e in Cina la crisi è acutissima. Loro cresceranno, prevedevano di crescere del 6% quest'anno, cresceranno, se va bene, del 5%. Per loro un punto di PIL è un dramma. Crescessimo noi del 6% saremmo nel paradiso terrestre, però per loro invece è un dramma. L'auto, una delle industrie chiave anche in Cina, ha già perso il 92%. Foxconn, che è il principale fornitore di componenti per l'iPhone, Apple, da il 7% della componentistica Apple, è già chiusa. E senza quel 7% non è che c'è un altro fornitore, semplicemente non ci sono gli smartphone. Tutto questo avrà effetti sull'economia globale, il Fondo Monetario li sta stimando, avrà effetti ancora più forti sull'Italia, dove purtroppo la situazione congiunturale era già drammatica. Noi avevamo avuto un dicembre nero, sia per la produzione industriale, sia per il prodotto interno lordo, crescita meno 0,3%. Purtroppo in queste ore stiamo contando gli effetti del coronavirus, che impattano nell'immediato, nel turismo. L'abbiamo sentito dal vostro collegamento, già ora, secondo le stime del settore, sia federalberghi, sia agenzie di viaggio, siamo a meno 40%. Stiamo parlando di un settore che vale 40 miliardi di pill. A questo possiamo aggiungere l'alta moda, la settimana della moda a Milano, praticamente è andata deserta, non c'è stata. Il salone del mobile è rimandato. Il salone del mobile è rimandato, anche qui parliamo di un settore che vale 90 miliardi di euro. Se pensiamo all'auto, come effetto della crisi cinese, l'automotive italiano è uno degli asset industriali più forti che abbiamo. E anche lì l'impatto sarà pesante. Quindi il discrimine è anche quanto dura questo allarme, quanto durano le misure. Quanto durano le misure. Qui ci aiuta per qualche aspetto l'esperienza. Sulla base dei dati dell'Ocse, la SARS nel 2003 ebbe un impatto intorno ai 40 miliardi di dollari sull'economia complessiva. Il virus H1N1, sei anni dopo, nel 2009, impattò per 55 miliardi. Quindi oggi sulla base di quelle stime noi possiamo immaginare un impatto ancora più alto. La durata sarà sicuramente prolungata. Questa mattina ai nostri microfoni c'era la Presidente di Confesercenti. Tutte le piccole imprese del settore commerciale loro già stimano che nei prossimi due trimestri, quindi stiamo parlando dei prossimi sei mesi, potrebbero chiudere 15 mila aziende e potrebbero restare in mezzo alla strada 60 mila persone. E parliamo soltanto del piccolo commercio. E poi voglio sapere quanto di questo ha contezza il Governo e quante misure sta mettendo in campo. Però ci arriviamo. Giannini, Alessio, intanto i social. C'è un unico tema di narrazione come si può facilmente immaginare che è il coronavirus declinato in diverse modalità. Questo è il count. Ma sei raffreddato? No, non sono raffreddato. Sto benissimo. Godo di ottima salute. Chiedevo solo questo tema. No, no, sta benissimo. Mandiamolo a casa semmai. Uno non si può preoccupare. No, no. Perfetto. Tutto bene. Ministero della Salute. Questo è l'account ufficiale Twitter con l'incontro che c'è stato tra il Ministro della Salute, Roberto Speranza, la Commissaria Europea della Salute, il capo europeo dell'OMS e poi le misure che il Governo intende prendere per foraggiare l'economia. Pronti 300 milioni per il Made in Italy, l'annuncio del Ministro degli Esteri Di Maio. Mentre Matteo Salvini, che dall'inizio è stato uno dei più energici oppositori delle linee dettate dal Governo, propone la sua di ricetta, casa integrazione in deroga, cedolare secca sugli affitti, scuola recupero dell'attività didattica. Poi due notizie curiose, soprattutto una, l'Arcidiocesi di Vercelli farà la messa del mercoledì delle Ceneri in diretta Facebook per evitare contatti. Oggi, poi noi dopo proveremo a collegarci con qualcuna di queste realtà. Sì, perché oggi è una giornata particolare. Vi do un ultimo dato che arriva dalle borse. C'è stato il rimbalzo tecnico che ieri non c'era stato sul nostro listino principale, sul Fuzzimib, che in questo momento quota più 1%, ma il vero tema arriva dal movimento delle materie prime, perché, come spesso succede in situazioni di difficoltà, l'oro, il prezzo dell'oro, è particolarmente favorevole per gli investitori, mentre scende dai minimi il prezzo del petrolio. Sale, scusate, ai massimi pezzi del petrolio. Allora, Professor Bagatti, le propongo due parole per decriptare il momento, diciamo così, perché sono le due parole che sentiamo di più in questi giorni, giorni in cui c'è un flusso continuo di informazioni. C'è la parola angoscia, poi qualcuno dice paura, poi qualcuno dice ansia, però, insomma, di quello stiamo parlando. E poi c'è, diciamo, ci sono gli inviti a mantenere la calma. Quindi, diciamo, l'altra parola potrebbe essere la lucidità. Ecco, quanta dose di lucidità ci vuole per regolare, per controllare, per tenere in qualche modo sotto controllo l'ansia, la paura che invece sembra dominare? Le due parole che sono state evocate rimandano a due elementi della nostra persona, cioè la ragione e l'emozione, il sentimento. Eh, giù. Quando c'è la paura, in genere, la cosa che non si può fare, nel senso che non funziona nulla, è dire a chi ha paura, non aver paura. La paura ha un suo percorso, ormai si è diffusa per tutta una serie di ragioni che adesso non stiamo a ricostruire. Credo che è importante che le istituzioni, da una parte, i media dall'altra, ma poi ciascuno di noi diventi un trasmettitore di un percorso di risoluzione, di capacità di affrontare il problema per far rientrare un po' per volta questa paura che si è diffusa. Non possiamo immaginare che il processo sia velocissimo, le persone si trovano davanti a qualche cosa che non conoscono, spesso sono confuse dalla quantità di notizie, cose che circolano e tutto questo parla della nostra società. Io cito in questi giorni sempre un grande sociologo che è un rigback che 35 anni fa scrive un libro La società del rischio per dire che il rischio che qualche volta diventa così prossimo come in questi giorni è costitutivo delle nostre società. E allora è importante che stiamo dentro quello che sta succedendo ma anche cerchiamo di imparare tutti quello che ci serve per affrontare questa situazione e le prossime situazioni. Sì, diciamo che non aiuta ma ci torniamo dopo la pubblicità l'indicazione che ci arriva dalle istituzioni nel senso che io un giorno avevo capito che eravamo praticamente la Wuhan d'Europa e oggi ho capito che è poco più di un'influenza. Voi capite che sono due estremi di un ragionamento e uno fa un pochino fatica a regolarsi. Andiamo in pubblicità e ci troviamo tra poco. Eccoci qua di nuovo studio sono noi Massimo Giannini e il professor Magatti mi aprite intanto il segnale dalla camera giusto Alessio? è lì che si sta dibattendo. L'onorevole Bond di Forza Italia si sta discutendo del decreto di emergenza Bond Dario però James non sapevamo non lo sapevamo non lo sapevamo io guardando Giannini ve l'ho detto magari a me mi è sfuggito invece Giannini che le sa tutte non lo sapeva neanche Giannini è parente del più noto ci abbiamo un onorevole Bond è bellissimo di Forza Italia di Forza Italia l'intervento sulla discussione per il decreto di emergenza coronavirus il primo quello che è norme di telelavoro quarantena quindi il primo decreto voto di fiducia previsto intorno alle 18 e 30 circa si prevede l'unanimità giusto Giannini dovrebbe passare almeno su questo dovrebbe passare con i voti di tutti maggioranza opposizione scusate me la fate sentire la voce di Bond perdonate la mia debolezza avvenuti in Italia caduti in Italia ce ne sono diversi guardo sempre il sottosegretario perché lo riguarda non è colpa non è Daniel Craig non c'è a orecchio non mi sembra Daniel Craig è andata così allora Giannini io non voglio entrare nella polemica politica perché francamente la trovo proprio fastidiosa in questi giorni sarà che ci chiamano tante di quelle persone da casa per avere informazioni perché sono preoccupate che veramente è diventato difficile anche per noi concentrarci su altro e capire le ragioni delle polemiche tra le regioni e Conte e le varie parti politiche però la domanda che le faccio è se dal suo punto di vista ci sono state delle leggerezze e se sì quali degli errori e se sì quali e quanto la vicenda del coronavirus dunque un'emergenza sanitaria stia mettendo in evidenza un sistema che ricordiamolo è delegato alle regioni per quello che ci riguarda la sanità è materia delle regioni e quindi quanto poi il coronavirus abbia messo in evidenza lo scollamento tra le regioni la difficoltà di avere tutto il medesimo comportamento ma lei prima della pubblicità ha sintetizzato nel modo più efficace i due opposti che abbiamo visto in campo in questi ultimi dieci giorni noi siamo passati appunto nel breve giro di pochi giorni da Alessandro Manzoni la peste a Milano la colonna infame a Mark Twain e cioè il vecchio detto la notizia della mia morte è decisamente esagerata lo dico con tutto il rispetto per le persone che si sono ammalate e anche per quelle che hanno perso la vita però per dire come in presenza di una comunicazione e anche un'azione del meccanismo istituzionale nel suo complesso da un lato il governo il capo del governo le sue strutture la protezione civile dall'altro lato i poteri locali le regioni i comuni si sia creato un sostanziale disordine istituzionale che aveva però come sfondo iniziale l'allarme la paura la necessità di fronteggiarla anche con misure estreme con misure nelle quali c'era una sorta di rincorsa a chi era più bravo a fronteggiare l'emergenza a chi lo faceva con più energia questo naturalmente ha ingenerato una fortissima preoccupazione noi non possiamo prendercela con gli italiani se poi succedono scene come quelle che raccontiamo in questi giorni e ancora in queste ore i supermercati vuoti l'assalto agli ambulatori e tutto quello che stiamo vedendo perché la paura è stata seminata a piene mani all'improvviso nella giornata di ieri cambio di fase abbiamo scherzato l'emergenza non è così drammatica e devo dire che da questo punto di vista purtroppo stavolta anche la scienza non ci ha aiutato perché anche gli scienziati si sono divisi tra chi ha sostenuto l'allarme e chi invece ridimensionava ieri anche per esempio Walter Ricciardi che è persona stimabilissima responsabile italiana dell'organizzazione mondiale della sanità che nei giorni scorsi aveva criticato il governo per l'inefficacia della sua azione per la scarsa severità delle misure ha detto no vabbè ma il 95% stanno bene se posso completare il ragionamento una riflessione sul nostro ruolo io ho trovato inaccettabile quello che sta accadendo in queste ultime ore quando il capo del governo soprattutto lui il presidente Conte si è rivolto ai media alle televisioni in particolare che ha frequentato stabilmente nelle ultime 48 ore era dappertutto dicendo beh dipende da voi dovete voi abbassare i toni quando dicono così è perché vogliono occultare i pasticci che hanno combinato però un elemento lo voglio dire un elemento in più lo voglio aggiungere noi che facciamo informazione a partire dal suo programma Tiziana siamo qui per raccontare quello che succede banalmente però una cosa a me ha dato fastidio e dispiaciuta cioè nella categoria dei cosiddetti opinionisti giornalisti opinionisti vedere che la discussione non avveniva tanto sull'efficacia delle misure l'unica cosa che ci deve stare a cuore in rapporto alla portata dell'allarme no anche lì si è riprodotto follemente secondo me e irresponsabilmente lo schema della curva favorevole a Burioni contro i fedelissimi favorevoli alla dottoressa del sacco che dice ecco questo almeno questo noi giornalisti non dovremmo farlo la scienza lasciamola agli scienziati noi cerchiamo soltanto di raccontare quello che succede proviamo a raccontare le notizie dovrebbero essere il nostro paio Alessio? Massimo Giannini faceva riferimento agli ambulatori presi d'assalto ieri a Milano il quartiere Bandenere quindi non lontano dal centro è dovuta addirittura intervenire la polizia perché a uno dei presidi dell'Agenzia Territoriare per la Salute c'era talmente tanta ressa che sono venute alle mani due persone in attesa di poter essere visitate è intervenuta la polizia per sedare gli animi lo riporta l'Ansa di Milano e nei giorni scorsi era successo una cosa simile con aggressioni verbali più o meno velate nei confronti del personale medico e paramedico che era lì per aiutare le persone e che diceva semplicemente non potete presentarvi qui senza aver fatto prima un pre-triage telefonico cioè una pre-consulenza diciamo sul vostro stato di salute che deve avvenire in telefonica Professor Magatti ormai ci siamo un po' abituati anche a questo tipo di racconto a vedere gli scaffali vuoti le persone che si accapigliano le mascherine che non ci sono più e però tutto questo in qualche modo poteva essere evitato con una comunicazione al limite che dall'inizio era più tranquillizzante o viceversa semplicemente puntuale e che non si ponesse il problema di essere prima una comunicazione che dava un allarme poi una comunicazione che invece stemperava cioè quanto questo su e giù ha alimentato poi la paura ecco sì la risposta naturalmente alla domanda è sì bisognava essere più capaci di calibrare le parole e calibrare le misure però io volevo fare un commento rispetto a quello che ha detto Giannini la società del rischio il concetto di rischio è esattamente quello per cui noi non abbiamo una certezza su ciò di cui parliamo noi troveremo sempre quando parliamo del rischio adesso del coronavirus rischio rispetto al riscaldamento globale rischio rispetto a tante altre cose troveremo sempre uno scienziato che interpreta i dati in un modo e un altro scienziato che interpreta quel dato in un altro modo allora il tema perché anche qui si è anche abbastanza straparlato la scienza naturalmente è una qualche cosa di cui noi non possiamo fare a meno ma la scienza non è in grado di darci tutte le risposte soprattutto quando dal piano scientifico si passa ai comportamenti sociali qui entrano in campo altre questioni sicuramente la forza delle istituzioni sappiamo che il tema della paura è al centro del dibattito politico da anni quindi chiaramente gli attori politici hanno giocato in un modo o nell'altro rispetto a questo sentimento dobbiamo tenere presente il livello di sviluppo del paese sappiamo che l'italia ha livelli ahimè diciamo culturali più bassi di quello di altri paesi avanzati e questo incide perché le persone sono confuse per via della comunicazione ma sono confuse anche perché non hanno gli strumenti per interpretare le informazioni che vengono fatte circolare quindi ci sono tutta una serie di elementi che ripeto quello che ho detto prima ci devono spingere a capire che la questione della gestione del rischio sarà anzi è già e sarà una normalità di una società avanzata allora dobbiamo fare i conti con questo abituarci a ragionare in questa direzione che significa concretamente chi ha responsabilità istituzionali deve calibrare molto bene le parole che usa e altrettanto deve calibrare molto bene le decisioni che prende nel momento in cui c'è un'emergenza è utile è saggio evitare le polemiche anche se naturalmente la critica è sempre opportuna terzo dobbiamo investire molto più risorse sull'educazione delle persone e dire alle persone che non è che c'è qualcuno che gli regalerà la sicurezza forse le persone non sanno forse non si sa che la parola sicurezza viene dal latino e significa si ne cura cioè qualche cosa che diciamo di cui non mi devo occupare ecco la sicurezza è una costruzione sociale alla quale tutti quanti tutti i cittadini partecipano naturalmente a partire dal capo del governo andare in giù questo vuol dire che la nostra sicurezza la dobbiamo costruire insieme non che qualcuno ce la deve dare voglio mettere sul tavolo un altro elemento che ci porta in sicurezza Giannini perché rimo contro il professor Magatti allora voglio mettere sul tavolo un dato noi siamo il terzo paese per numero di contagi c'è la Cina c'è la Corea c'è l'Italia ora si è detto siamo il terzo paese noi stiamo facendo un sacco di controlli lei mi dice mi aiuta a capire secondo lei perché siamo il terzo paese ma questa è una domanda alla quale è molto difficile dare una risposta ricollegandoci proprio a quella relazione della quale parlava il professor Magatti e cioè le risposte della scienza che a dispetto di quello che spesso pensiamo non è esatta io non criticavo gli scienziati in questo caso perché dobbiamo prendere atto che la scienza non sempre è esatta tranne pochi casi quindi partiamo da questo presupposto e però poi appunto le responsabilità della politica che deve tradurre decifrare le indicazioni che gli arrivano dagli scienziati e sulla base di quello elaborare una strategia ora se caliamo tutto questo nel ragionamento e nella domanda che lei mi ha fatto partiamo da un presupposto noi abbiamo avuto in una prima fase anche qui della serie schizofrenia e disordine istituzionale alcune regioni che sono partite lancia in resta dicendo dobbiamo controllare tutti uno per tutti il presidente della regione Veneto Zaia che voleva fare il famoso tampone a tutti i cittadini del Veneto naturalmente questo non è possibile gli è stato anche spiegato attenzione che se tu fai questo poi si verifica quello che poi è successo abbiamo sentito non mi ricordo se era proprio nel vostro programma o in quale altro programma un sindaco di uno dei comuni della zona rossa tossire in diretta a domanda non sta bene? non lo so non mi sono potuto controllare perché i tamponi sono finiti ecco allora questo è uno dei tanti cortocircuiti ai quali abbiamo assistito ora può darsi che quindi in casa nostra ci siano più casi perché abbiamo fatto più controlli perché comunque al di là degli eccessi del Veneto è vero che grossomodo siamo intorno a 1.500 ecco esattamente sono tanti rispetto alla Francia il professor Ricciardi ci ha spiegato a lungo in questi giorni che in Francia ne hanno fatto pochi più di 400 ma magari farsi un colpo di telefono e dire come ci vogliamo comportare noi che siamo tutti europei per esempio sarebbe stato fondamentale impedire la sanità fai da te regione per regione o comune per comune è esattamente quello che è mancato anche perché voglio ripeto sono tutti i ragionamenti che noi facciamo a partire dalle informazioni che abbiamo però se fosse vero che gli altri come pure si è lasciato intendere stanno facendo un po' i furbi cioè li contano diversamente danno meno informazioni sui numeri noi avremo almeno tre ragioni di preoccupazione la prima quella economica saremo gli unici a pagare un pegno fortissimo dal punto di vista economico la seconda quella di discriminazione perché ci dicono siete brutti portate il virus non dovete entrare nei nostri paesi la terza non meno grave siccome abbiamo capito che il contagio si trasmette anche da persone asintomatiche se gli altri possono entrare noi restiamo a casa nostra ma entrano tutti e ci portano liberamente il contagio cioè non è una follia tutto ciò lo è assolutamente ed è una delle ragioni per le quali appunto le persone l'opinione pubblica poi è disorientata e quindi ha paura perché non capisce tutte queste misure che si contraddicono l'una con l'altra aggiungo a proposito dei tamponi per smentire la tesi io ci credo poco ripeto non sono uno scienziato e lo dico con tutta l'umiltà del caso non credo alla tesi di chi oggi sostiene certo noi abbiamo più casi perché controlliamo di più e perché comunque gli altri paesi ci marciano non ci stanno dicendo la verità allora questo può essere vero per la Cina e credo e temo che neanche più tanto per la Cina che è una sostanziale ma perché se fosse vero per la Francia per la Germania sarebbe gravissimo le altre sono democrazie occidentali come la nostra faccio fatica a pensare che lì il sistema mediatico per esempio non indaghi non approfondisca e non tiri fuori le notizie che il potere tutti i poteri tendono ad occultare quando sono scomode quindi questo a me sembra veramente un alibi per smentire il quale uso l'ultimo dato e cioè il numero di controlli fatti invece in Gran Bretagna in Inghilterra sono stati tantissimi loro tra l'altro spiega il professor Ricciardi hanno un meccanismo di tampone molto più preciso di quanto non lo sia il nostro e lì ne hanno fatti quasi 10.000 e i casi sono pochissimi quindi direi che il tema non è ci hanno raccontato una balla loro dopodiché rimane il problema di un'Europa perché noi parliamo di disordine istituzionale italiano non possiamo non parlare di disordine istituzionale anche a livello europeo perché poi questa è un'epidemia che ci riguarda tutti allo stesso modo e se scatta un meccanismo di morse tua vita me a livello europeo non ci siamo proprio è inaccettabile precisamente professor Magatti chiudo intanto ricordando il suo ultimo libro che è non aver paura di cadere lei fa una disamina sul valore della libertà no? in questo momento diciamo la libertà è limitata a partire però da un principio precauzionale e cioè di tutela di tutela delle comunità non so se lei ha sentito stamattina la trasmissione di Giannini la trasmissione radiofonica ha chiamato un edicolante che ha raccontato che aveva scelto di mettere in vetrina i giornali con i titoli meno allarmistici per aiutare ho capito bene no? per aiutare a tirar su l'umore dei clienti facciamo un applauso insieme Magatti si sente rispendere una parola per l'edicolante io l'ho trovato magnifico Magatti beh sì naturalmente tutti apprezziamo questo edicolante diciamo così che la libertà lo vediamo in questi giorni in cui parliamo di un contagio no? parliamo di un'epidemia contagiosa cioè che ci si trasmette da una persona all'altra ecco questo secondo me è un punto di riflessione molto interessante noi ci siamo immaginati e ci immaginiamo di vivere gli uni indipendentemente dagli altri questo non è vero è una è una pura rappresentazione ideologica noi viviamo solo gli uni in relazione agli altri questo si porta dietro tutta una serie di conseguenze anche quando si fa informazione l'edicolante che fa una scelta una scelta intelligente naturalmente uno può andare a l'edicole e comprare il giornale che vuole ma lui fa una scelta perché sa che ha un ruolo diciamo in rapporto ai suoi clienti ecco questo è un buon esempio di come la libertà è chiamata in causa in questa vicenda del contagio dobbiamo stare attenti a non essere dei consumatori della paura semplicemente guardare questo fatto come qualcosa che non ci riguarda che riguarda altri che noi non possiamo fare nulla no noi possiamo fare tanto possiamo diciamo naturalmente avere comportamenti corretti informarci in maniera sensata aiutare a costruire un clima che punta a risolvere il problema invece che semplicemente a generare panico grazie al professor Magatti grazie a Massimo Giannini grazie a voi grazie davvero per essere stati con noi Giannini esce ed entra Roberto Arditti direttore di formiche.net Luca Telese dove sta Luca Telese sta arrivando Luca Telese sempre in ritardo Luca Telese mica come Arditti puntuale preciso vedi vedi le nostre sicurezze sono del segno della vergine quindi precisino 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 a Milano altra persona assai precisa c'è il professor Fabrizio Pregliasco il nostro virologo di elezione lo ha già fatto per noi oggi si presta nuovamente a rispondere alle vostre domande Alessio ricordiamo anche che c'è la possibilità di interagire attraverso i social l'hashtag è all'esperto chiedo il numero di telefono invece lo vedete sul nostro crawl sul titolo 0601 90 8096 ricapitoliamo per favore i numeri Alessio questi sono i numeri totali quindi la mappa interattiva della John Hopkins University dei contagi mondiali 81.191 81.000 sì con 2768 morti sia per quanto riguarda i contagi sia per quanto riguarda i morti come si intuisce anche dal colore rosso della cartina il 98% dei casi è sempre in Cina l'Italia è al terzo posto questo è il puntino rosso che corrisponde al nostro paese il più cicciotto di tutto il vecchio continente 374 sono i casi ufficiali comunicati dal Ministero della Salute poco fa è arrivata la notizia annunciata dalla governatore della Liguria Giovanni Toti di altri 4 casi in Liguria mentre sono 6 i minori che sono stati contagiati dal coronavirus allora professor Pregliasco prendo per buono il numero 374 posto che come sappiamo è un aggiornamento continuo di numeri il numero delle vittime al momento sarebbe 12 le chiedo questi numeri che cosa ci raccontano della progressione della malattia come sta procedendo il virus sta andando avanti ma non troppo devo dire ma in un'ottica appunto epidemica non c'è quella moltiplicazione che è quella che inquieta di più però si evidenzia questo incendio che dilaga anche poi con questi spezzoni incendiari che in luoghi diversi dell'Italia facilmente con i viaggi la situazione in Cina sembra interessante pur con i limiti delle euro conteggi ma sicuramente il trend è interessante e ci dice che si è raggiunto il picco alla fine del mese di gennaio con diciamo una tendenza a scendere quindi diciamo che nel momento in cui abbiamo avuto questa sfortuna perché io dico che abbiamo semplicemente rispetto agli altri paesi abbiamo avuto una sfortuna un qualche soggetto che è arrivato sin dall'inizio di questa epidemia non se ne magari neanche ha reso conto ma è una bella sfortuna grossa perché i numeri degli altri paesi mi sembrano significativamente diversi non vorrei essere minagramo ma aspettiamo di vedere cosa succede lei dice diamogli tempo non è un desiderio ma è una delle opzioni ovviamente però per esempio nel Regno Unito di test ne hanno fatti tantissimi ne hanno trovati pochissimi non sarà che questo virus lo dico male però un po' ce l'ha con gli italiani cioè con il nostro DNA non gli piacciamo noi perché di alcuni paesi si è detto hanno fatto oppure gli piacciamo troppo e si affeziona a noi perché di alcuni paesi si è detto hanno fatto molti meno test però quelli che ne hanno fatti quanti noi per esempio il Regno Unito ribadisco 10.000 test e ci avranno non so 20 contagiati adesso non mi ricordo il numero esatto però pochissimi rispetto a noi sicuramente perché noi in effetti eravamo anche insieme la settimana scorsa sembrava una cosa come dire che non ci toccava invece ha dilagato questo è davvero non c'è risposta certa diciamoci la verità però davvero io credo proprio che noi abbiamo subito un primo approccio e da lì dei casi diciamo non evidenti hanno creato le condizioni per evidenziare fuori da un iceberg che è diciamo apparso direttamente quei casi più importanti che sono diventati il segnale che ci ha permesso di comprendere una situazione più ampia e professor Pregliasco siccome è di oggi la notizia anche di bambini che sono risultati positivi minori tra l'altro anche bambini piccoli 4 anni 10 anni poi qualche adolescente stiamo parlando credo di 7 casi 6 l'ultimo bollettino dice 6 bene e adesso pure lì diciamo oggi c'è stata tolta praticamente quella che sembrava essere una certezza e cioè che i minori risultavano non positivi al coronavirus sono andata a riguardarmi i numeri della Cina poi con tutta la prudenza sulla Cina però su 81.000 casi totali e circa 70.000 casi abbondanti solo in Cina 3 sono i bambini che sono risultati positivi noi siamo già a 6 su 350 positivi di fatti ecco i casisti che anche in altre nazioni comunque evidenziavano sempre con piccoli numeri dei bimbi di varia età di giovani adolescenti quindi sicuramente anche qui non abbiamo la certezza del perché non colpiscono o meglio non se ne vedano effetti pesanti io credo che ci sia una capacità di risposta più elevata nella giovane età e quindi molti casi nei bimbi decorrono appunto sotto quell'iceberg in quella parte diciamo della non visibile ma che è poi l'incubatore il diffusore della patologia quindi non credo sia e sarebbe stato strano non vederli ecco era incomprensibile il fatto che siano molti meno è più ragionevole a fronte appunto di caratteristiche immunologiche di capacità di reazione maggiore e il fatto che in Cina la percentuale fosse praticamente inesistente perché non le hanno trovati non le hanno cercate perché? è anche quello tra i tanti ipotesi sicuramente ci sta anche quello lo sappiamo l'abbiamo detto da sempre al di là di quello che hanno detto poco o meno male i cinesi in ogni notifica in ogni analisi anche in quella italiana sicuramente ci sono delle limitazioni non sono inefficienze o errori sono una sottostima quando si vanno a notificare i casi perché la notifica dipende anche dalle procedure per noi è un'esecuzione del test nel laboratorio di riferimento riconfermato acquisiamo informazioni impariamo una cosa nuova semplicemente questo certo anche la comunità scientifica naturalmente fa quello che può sì no perché veramente fino a ieri per fortuna i bambini non si ammalano di coronavirus esatto invece sì la comunità scientifica fa quello che può sulla gestione emotiva in Italia non parlo degli aspetti sanitari per quello che posso capire io il sistema sanitario italiano ha fatto quello che era nelle sue possibilità adesso poi ci arriviamo parliamo anche dei vari ospedali ma invece sulla gestione emotiva italiana bisognerebbe aprire una riflessione perché la mia opinione è molto semplice tra venerdì e sabato il combinato disposto di molti fattori primo fra tutti a mio avviso quello delle autorità ha generato una situazione che è solo italiana però in Europa sto parlando dell'Europa cioè in nessun altro paese è scattata una sorta di allarme nazionale come da noi io per esempio ho una forte perplessità sulla decisione ma questo è un legame con i numeri e col fatto che improvvisamente c'è stato un picco di numeri oppure è semplicemente perché siamo fatti così ti faccio un esempio di carattere di immagine a mio avviso riunire il governo ripetutamente nella sede della protezione civile che tra l'altro gli italiani associano a tragedie devastanti come i terremoti è una scelta secondo me che si giustifica di fronte a una immensa tragedia nazionale anche ascoltando il professor Pregliasco ora ma anche tu non ti sembra che siamo in questa parte in specie allora ecco che poi dopo tutto il mondo dell'informazione beh no ma anche perché se fai la conferenza stampa da lì io ti seguo e lo racconto che sei in conferenza stampa salvo poi tre giorni dopo chiamo a cominciare a dire eh no però non esageriamo mi raccomando non fate allarme mi aprite Elena Testi vedo le immagini posti di blocco lì siamo praticamente a ridosso della zona rossa e stiamo parlando della Lombardia Elena il Lodigiano più precisamente sì Tiziana siamo a ridosso della zona rossa eh tu qua vedrete due posti di blocco della polizia Edoardo ve li inquadra una prima macchina che è quella dove stanno facendo i controlli in entrata e una seconda macchina che è quella che vedete più in fondo dove controllano invece le persone che possono uscire dalla zona rossa qui invece a destra c'è una delle aziende agricole di Codogno e abbiamo scoperto parlando con alcune persone che entrano nella zona rossa che le aziende zootecniche alcune funzionano abbiamo chiesto come mai funzionano come mai le persone entrano a lavorare e ci hanno spiegato che si muniscono eh di disinfettanti di mascherine delle tute e che continuano le attività lavorative alcune continuano esattamente allora Elena non può entrare nella zona rossa ma noi sì stanno fermando un camion Elena cerchiamo di capire quello è un camion che porta approvvigionamenti così giusto per capire cosa succede come va avanti la vita lì allora questi sono dei camion che hanno dei carichi interni con dei permessi che vengono rilasciati dalla prefettura ora noi non riusciamo a vedere il carico quello che ti posso raccontare è che noi abbiamo visto molti camion macchine pieni provviste alimentari che entravano e i medicinali abbiamo visto entrare e quindi plausibilmente staranno trasportando o medicinali o cibo Elena sei vestita abbastanza calda vedo che lo fanno lo fanno entrare sei vestita abbastanza cioè sei adeguatamente vestita no perché appena ti viene un po' di raffreddore capisci che noi ci viene un'ansia che la metà è sufficiente diciamo devo dire la verità è arrivato un vento inaspettato fiorento ecco recupererei anche un cappello qualcosa che ti protegga la testa grazie dei guanti cioè vediamo di metterci nelle condizioni di lavorare in serenità dicevo che Elena non può entrare nella zona rossa come è giusto che sia ma invece chi c'è nella zona rossa lo vedo lì mi fa sorridere perché è già pronto per il suo viaggio in bici Filippo Novelli 32 anni è collegato con noi da Casal Pusterlengo lui è bloccato nella zona rossa e gli abbiamo chiesto se ci porta in giro con lui che ci fa vedere intanto come stai Filippo allora a parte il vento di oggi che soffia raccordarsi che fino a 60 km orari bene adesso bene non ho sintomi particolari di influenza che c'è scritto nel cartellone alle tue spalle ecco qui coronavirus la popolazione è invitata in via precauzionale a rimanere nelle proprie abitazioni cosa alla quale tu stai contravvenendo ma lasciamo stare la cosa dopo adesso poi quando cambia la schermata leggiamo vediamo se cambia non ancora allora mi dicevi che tu stai bene ma com'è la vita nella zona rossa cioè a parte te quante persone ci sono in giro faccio vedere subito se riusciamo a tirare qui la fotocamera la situazione qua è abbastanza tranquilla come potete vedere adesso la piazza è quasi affollatissima diciamo deserta esatto ci si reca a prendere le sigarette al distributore automatico i bar sono tutti chiusi chiaramente cosa c'è di aperto i supermercati e le farmacie anche immagino no? e le farmacie sono aperte sì i supermercati sono aperti osservano orario normale di apertura i ricordimenti stanno arrivando non c'è più il problema credo almeno sono passato prima davanti al supermercato della calca o della resta che forse c'è stata nei primi giorni nei giorni scorsi esatto senti Filippo ti chiedo due cose la prima tu sei libero di muoverti di uscire come quando credi restrizioni particolari non ne ho ricevute se non quell'invito che abbiamo letto insieme diciamo che è proprio un invito che abbiamo letto insieme diciamo ottemperare alle istruzioni che ci sono state date utilizzando buon senso la gente anche qui anche qui esce evita il più possibile di fare raggruppamenti assembramenti si passeggia in campagna ricordiamoci che siamo in una zona con spazi ampi aperti anche all'aperto dove ci si può recare passeggiando aspetta solo un attimo Filippo che vedo dalle tue spalle è cambiato diciamo intanto il cartellone alle tue spalle dice certificati anagrafici disponibili anche in modalità online niente più code allo sportello certo c'è la preoccupazione del comune di evitare tutte quelle che sono le code o cose di questo tipo ti chiedo ancora ma voi tu mi hai detto che tu sei libero di uscire e entrare serenamente tu non sei positivo al virus io non ho fatto il tampone quindi non lo sai quindi non lo so ho chiamato il numero di servizio 15 00 venerdì mattina quando è uscita la notizia che un nostro conterraneo è stato ricoverato e la risposta che mi è stata data è perché vuole fare il tampone se non ha sintomi ma cosa lo fa fare? ecco quindi diciamo che siccome tu sei bene non c'è ragione di fare il tampone secondo quello che ti hanno detto ma le persone che invece sono risultate positive si muovono liberamente come te tu le conosci che tipo di precauzioni utilizzate in paese? persone che sono risultate positive sono in quarantena sono in quarantena a chi è stato riscontrato è stato chiesto comunque positivo ma asintomatico quindi senza sintomi è stata chiesta di fare la quarantena e quindi di stare chiusi in casa ma è una quarantena controllata? cioè c'è qualcuno che controlla? o è fiduciaria? da quanto ne so per quello che ne posso sapere è fiduciaria controlli in particolare non so se sono stati eseguiti effettivamente va bene Filippo magari ci ritroviamo più avanti se poi fa troppo freddo ce lo dici ovviamente e ti lasciamo in pace però insomma se tu continui a stare un po' in giro e se vuoi ci colleghiamo anche più avanti nel corso della trasmissione intanto grazie uno dei temi è che le persone poi in realtà è la ragione anche per cui i darchi sono presidiati perché qualcuno poi è uscito da questa quarantena qualcuno ha cercato di andare fuori per le ragioni più disparate poi quelle sono zone in cui ci sono molte seconde case qualcuno si è sentito prigioniero e voleva tornare a casa sua quindi al di là diciamo dei provvedimenti poi c'è la responsabilità delle persone scusa solo un attimo Roberto perché nel frattempo vedo messa che succede adesso sempre mercoledì delle sceneri sì alcune messe che vengono fatte virtuali cioè online per essere proposte ai fedeli che non possono raggiungere cioè questa è una diretta facebook questo è una diretta sì uno streaming youtube credo sia uno streaming youtube con i potenti mezzi di Alessio Schiesari che sta lavorando da remoto siamo riusciti ad accedere perché ricordiamo l'applauso a Schiesari applauso in quarantena appunto sia Schiesari quindi lo salutiamo è la cripta della cattedrale di Lodi ah ecco e quindi c'è soltanto il prete che fa la funzione ed è da solo nel frattempo vedi dici la parola prete compare Luca Telese facciamola entrare davanti alla messa mi arriva Luca Telese ho saputo che c'era Arditti per gli altri e il top è qua il tema della responsabilità no Arditti però gli italiani ci sono anche le responsabilità personali mi sembra che si stanno comportando bene gli italiani onestamente nel complesso certo qualche episodio di intolleranza anche verso persone provenienti dai paesi delle nazioni dell'est del mondo c'è stato però nel complesso secondo me gli italiani si stanno comportando bene non li possiamo accusare di fare gli irresponsabili sento però e lo do come contributo alla nostra discussione da almeno un giorno o due diciamo tra ieri e oggi crescere una seconda preoccupazione che io valuterei con forse maggiore rilevanza non maggiore no rispetto a quella del coronavirus in quanto tale ed è che sono moltissimi che cominciano a toccare con mano dei danni di carattere economico e adesso abbiamo una lunga pagina su questo no ma assolutamente no lo vedremo anche dai nostri collegamenti sono già un fatto i danni economici e Alessio i numeri utili a cui fare le proprie richieste per avere informazioni per denunciare di non stare bene li ricordiamo? allora possono scriverci su facebook no a parte i nostri io dico in generale ah i numeri complessivi sono i nostri poi arriviamo ai nostri abbiamo le telefonate ho capito la centralità di Tagadà però un po' meno si sa 1500 è il numero al quale possono richiedere informazioni in caso di sintomi gravi o nel caso in cui avessero sospetto contezza di un possibile contagio 112 e 118 in più sul sito del ministero della salute sono disponibili tutta una serie di numeri verdi regionali e stamattina ne avevamo contati 11 per accedere e avere informazioni quindi attraverso il sito del ministero della salute avete informazione ulteriore un numero gratuito al quale fare riferimento a seconda della regione in cui abitate a questo punto apriamo le telefonate perché c'è Preiasco che risponde alle vostre telefonate dovrebbe esserci al telefono Simonetta che chiama da Casal Posterlengo ho capito bene Casal Posterlengo che è nella zona rossa Simonetta prego buongiorno ben trovata ben trovata grazie una domanda premetto che sono un'italiana orgogliosa e orgogliosa della sanità italiana che è piena di eccellenze quindi questa è una premessa importante una domanda una qualche mese fa io ho prenotato presso l'istituto a Milano un'ecografia e una mammografia mammaria che mi è stata fissata per il 27 di marzo il giorno lunedì 24 febbraio mi hanno chiamato e l'hanno annullata me l'hanno annullata dicendo asserendo che queste erano disposizioni ministeriali io una cosa che mi domando rifacendomi prima all'intervento del professor Masazzi questo non è un messaggio di paura è un messaggio di terrore perché io sto parlando del 27 di marzo mi è stata annullata accidenti ma le hanno spiegato perché l'è stata annullata l'è stata annullata in quanto abitante di Castalposterlengo cioè zona rossa esatto ah ecco per questa precisa ragione appena ho sentito il nome il nome dell'istituto ho detto è perché sono di Castalposterlengo esatto lei è in quarantena no né in quarantena normale né in quarantena fiduciaria ma queste sono disposizioni ministeriali Simonetta grazie per averci chiamato adesso poi chiedo anche a Preliasco che cosa ne pensa lui però certo il messaggio non è rassicurante ha ragione la signora Simonetta prego Preliasco purtroppo ha proprio ragione le indicazioni regionali ci hanno costretto attraverso una esplicita indicazione di sospendere tutte le visite non ritenute come dire procrastinabili e quindi di peraltro nell'ospedale che dirigo le indicazioni che io ho dato sono state quelle di ovviamente non dire arrivederci è stato bello poi ci risentiamo insomma ma fissare una data successiva a quella data le indicazioni e anche diciamo rassicurare sul fatto che tutte queste persone la signora non so se è venuta lei ci sta confermando che l'indicazione del ministero è che per tutto il mese di marzo ma solo per il mese di marzo anche per esempio per il mese di aprile per quanto tempo è tutto sospeso e le persone della zona rossa non si possono far curare ci hanno detto di sospenderle tutte quelle che sono nella lista d'attesa si ne dia? si ne dia? no in un'ottica di continua diciamo valutazione e aggiornamento cioè se io abito nella zona rossa e ho una visita fissata fra sei mesi voi mi state chiamando per dirmi che l'annulliamo? che per ore annullate ci sarà una risistemazione magari arriverà anche prima a sto punto in genere le visite hanno abbastanza abbastanza ma purtroppo perché è il collegamento al fatto che loro non possono uscire quindi il concetto è che una persona se la signora è per una visita mammografica per esempio di screening da quanto ho potuto capire sì no però chiaramente la signora assume come informazione che lei non potrà uscire neanche il 28 di marzo cioè questo è il tema no? perché se io ti chiamo e dico il 28 di marzo non vieni quella informazione che mi stai dando è che io presumo che tu anche il 28 di marzo non possa uscire no allora la speranza è che ovviamente non perda il filo il treno e venga rimessa in ballo diciamo in una chilometrica successiva come dire lista d'attesa e quindi l'organizzazione che ci è stata data non è lasciamoli da soli e non diamogli risposta l'indicazione completa è per ora questa prenotazione è come dire annullata ma non che la persa verrà riprogrammata ma questo mi è chiaro ripeto è il tipo di messaggio che arriva che mette una certa ansia siamo alla follia ecco breve aneddoto ieri sono dovuto andare a Milano per intervistare un grande campione del Caglio dello Scudetto Bobo Gori per la prima volta ho capito che è una ghost town tu ci abiti ci vivi per la prima volta nella mia storia anziché avere l'enorme fila delle persone alla centrale e qualche taxi ogni tanto corre c'era un enorme fila di taxi e neanche una persona Milano se la vedi e l'attraversi sembra una città da dopobombe è una città fermata allora io capisco la cura dell'epidemiologo che se uno studia è una metà fra un medico e uno statistico ha il dovere la missione intellettuale di contenere al massimo il profilo di rischio il contagio per un epidemiologo dieci persone fermate dentro una zona rossa sono tre alla terza più n che non diffondono il contagio ma qua di fronte a un'epidemia di influenza stiamo fermando i motori dell'Italia lo stupore civile civilissimo di questa donna che ci chiama dicendo sono orgogliosa del mio paese io vorrei poterlo condividere perché io sono anche un po' incazzato quindi facciamole un applauso cioè è meno civile Telese ci sta dicendo io sarei meno civile vorrei segnalare all'assistente di studio Fabio se per favore quando abbiamo finito la trasmissione loro se si vogliono avvicinare per salutarmi tu li accompagni fuori vengono tutti e due da Milano sai com'è con civiltà lo dico con civismo allora ancora al telefono Domenico che chiama da Roma qual è la domanda per il professor Preghiasco intanto buon pomeriggio buon pomeriggio a lei dunque io ho un figlio che vive a buon pomeriggio si la sentiamo dunque allora io ho un figlio che vive a Lodi e sabato è tornato è tornato a Roma per problemi di lavoro sabato scorso domenica ha saputo che la persona con cui era stato a cena l'8 febbraio è ricoverata in ospedale positivo del coronavirus abbiamo chiamato i numeri istituzionali praticamente risposta nessuno il 1.5 il 1.5 il 1.112 il 1.118 cioè non siete riusciti a parlare non siamo riusciti a parlare con il 1.5 il 1.112 la prima volta ci ha detto che ci avrebbero risposto in 20 minuti sono passati abbiamo richiamato altre due volte sono passati tre giorni non hanno più risposto allora la domanda è questa considerando che il contatto con questa persona infetta è stato l'8 febbraio adesso possiamo considerare visto i tempi tra l'altro della quarantena oggi è il 26 febbraio lei dice possiamo considerarci fuori pericolo possiamo dire siamo fuori dal pericolo per quanto riguarda sia il contagio che la trasmissione assolutamente domenico grazie adesso sentiamo Pregliasco no purtroppo nei giorni scorsi io mi occupo anche del servizio di emergenza urgenza nell'ambito dell'attività di volontariato delle ambulanze in effetti questa comunicazione iniziale in cui abbiamo detto chiamate è stato detto chiamate il 112 che è il numero di pubblica utilità ha creato davvero un po' dei problemi perché a questo punto il 112 serve anche per eventuali delitti per eventuali diciamo problematiche non solo di salute ma anche di sicurezza sanitaria quindi è davvero importante ora usare i numeri delle regioni che sono stati proprio creati apposta per avere anche diciamo gli aspetti operativi eventualmente necessari rispetto al quesito del telespettatore è siete tranquilli e sereni è superato assolutamente il periodo di incubazione si è andati oltre e quindi ci si può la sera perché l'8 febbraio più 14 fino al 26 fa 18 esattamente quindi 18 giorni per il Gliasco è un uomo di buonsenso e basta sentirlo 5 minuti perché lo si capisce ma forse dovremmo applicare in grande al sistema paese questo buonsenso cioè immaginare che con la stessa velocità con cui si è strizzato il capo da un capo all'altro lo stivale adesso bisogna allentare la morsa se no l'Italia soccombe non per il virus ma per le conseguenze della quarantena ancora una telefonata che poi siamo già fuori tempo massimo ormai siamo abituati ancora una telefonata dovrebbe esserci Arturo da Busto Arsizio se ho capito bene Arturo buon pomeriggio buon pomeriggio a voi sì sono di Busto Arsizio allora io ho fatto una domanda di questo genere sei anni fa quasi sette ormai ho fatto un tropianto prendo degli immunosoppressori contemporaneamente mi sono state fatte fare delle chemofilus del melingo cocco e del termococco per diciamo delle 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 vaccinazioni per in generale mi chiedevo come mi devo comportare nel senso che al di là del fatto che io sono in una zona che non è per niente rossa potrei definire quasi giallo arancione ma insomma non è niente posso posso muovermi tranquillamente devo al di là del fatto di lavare le mani e tutte quelle altre cose utilizzare anche accorgimenti particolari oppure vivere una vita che spero sia quella scessa di essere una vita normale insomma Arturo grazie adesso la risposta del professor preliasco accortezze particolari deve assumere dei comportamenti particolari Busto Arsizio è giusto anche dalle mie parti e direi ad oggi direi quello che si deve fare si dovrebbe fare sempre e stiamo come dire continuamente ribattendolo dal punto di vista pratico sicuramente alla prima occasione magari di una visita di controllo a volte alcuni tipi di chemioterapici vanno eventualmente valutati se mantenerli spostare la posologia ma in linea di massima non deve essere come dire modificata la terapia a volte invece più su problematiche allergiche o di disturbi immunitari questo sì per cui direi al mio vicino di casa insomma delle mie parti ad oggi una vita tranquilla serena con una stringenza però dal punto di vista degli aspetti dell'igiene la mascherina ad oggi non serve nella vita comune esatto è importante allora poi ovviamente passiamo al numero privato di preliasco ad Arturo così preliasco è rovinato no che voleva dire Arturo no ma scherzo ovviamente per Arturo mi sembra da persona più discreta dice cose di grande buonsenso io però vorrei chiedergli sempre tenendo presente che fare il mestiere del medico o del ricercatore in questi momenti è complicato ma partendo da quello che secondo me molto opportunamente Luca Teresi diceva prima e cioè che ci siamo infilati con la complicità di tutti comunità scientifica compresa in una follia collettiva io dico professore lei dice ha risposto molto bene ho guardato adesso perché lo ricordavo ma in Italia muoiono prima di arrivare in ospedale statistica del Monzino di Milano 25 mila persone di infarto all'anno sono quelli solo che muoiono prima di arrivare in ospedale poi ci sono quelli per fortuna pochi che una volta arrivati in ospedale muoiono in ospedale ma sono pochi bene ora non è il professore che stiamo esagerando ha letto di tutto il fatto che questo coronavirus è terribile ma non è che tutti ha preso la mano a tutti pure voi questa storia allora io cerco spesso di ripetere questa questa problematica dal punto di vista di sanità pubblica questo virus ci preoccupa per quello che potrebbe essere una situazione che io spero non accada in cui di fatto ci scappi la mano cioè ci sono talmente tanti contagiati che le strutture ospedaliere non sono in grado di dare una risposta questa credo sia la prima preoccupazione ho capito ma quando poi poi non ci sono le terapie mi pare un'altra bella preoccupazione quando tutto questo cinema alla fine del 2020 magari ci sarà costato mezzo punto di pill perché parliamone eh parliamone però e del meglio che ne parliamo pubblicità ne parliamo ma dopo la pubblicità voglio mettere l'aggiunta dopo 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 eccoci qua siamo di nuovo in studio con Telesi Arditti che vengono da Milano e chi vuole capire capisce carico si noi ci tocchiamo noi ci tocchiamo noi baciamoci no voglio mettere il carico il ritorno mi fai presentare l'ospite e poi metti il carico accanto a me saluto Marita Lombardo Pigliola il suo ultimo libro è l'imperfezione delle madri un titolo che mi piace moltissimo mi fa pensare a quell'altro che le mamme non sbagliavano mai come era è il contrario quello che voleva però non sbagliano mai ma sono imperfetti e non sbagliano nella loro imperfezione sai perché ti spinge a cercare la perfezione quindi è un talento è un'energia no ma io mi sento molto imperfetta e quindi apprezzo diciamo è rimasto con noi pregliasco qual era il carico Telesi? no proprio su questo quando è che si può iniziare a dissequestrare l'Italia ieri il viaggio di ritorno per prenotare il treno erano tutti i vagoni risultavano esauriti sono salito sopra non c'era nessuno no cioè questa è l'immagine dell'Italia spaventata e questo è il rischio più grande che corriamo in questo momento quindi io solo a pregliasco faccio quello perché so che non è tale bano è ragionivo io vi faccio vedere qual è la situazione nel pronto soccorso perché se in generale l'Italia è spaventata ieri siamo stati a Torino alle Molinette hanno montato quella struttura davanti all'ospedale per creare una distinzione insomma nell'accettazione dei pazienti dov'è che siamo andati Alessio qui a Roma Roma abbiamo fatto un giro per Roma un giro per il pronto soccorso di Roma vediamo la sicurezza per adesso essendo tanti a Roma secondo me ci saranno delle situazioni di panico confido negli operatori sanitari che se ci sono state situazioni di pericolo si siamo attivati per proteggere gli altri non ho paura per niente ha visto ci sono i cartelli in giro lavarsi le mani tutte le pregozze stupidaggi io me ne lavo sempre io vivo in maniera normale mi sembra mi sembra che non ci siano contagiati allora questo è il racconto devo dire ancora nella capitale abbastanza sereno anche se gli stessi intervistati dicono poi il punto è che se arriva qua vedremo il panico perché siamo tanti che racconto è questo del coronavirus guarda io ho provato a pensare che il racconto sarà in futuro perché chiaramente la parola coronavirus quando c'era il coronavirus entrerà nella mitologia italiana al tempo del coronavirus succedeva che certo anche perché la prima grazie a Dio speriamo la prima è l'ultima epidemia nell'era dei social che hanno ovviamente un effetto di cassa di risonanza spaventoso io penso che passa spero ma anche lo penso che passerà alla storia diciamo alla memoria nostra e alla storia che racconteranno i vostri come un momento uno dei più grandi momenti di alterazione emotiva del dopoguerra e non come una spaventosa epidemia che lasciò sul campo morti e feriti cioè questo si racconterà secondo me del coronavirus ci ricorderemo che c'eravamo tanto spaventati ma pensa quando le zone rosse anche inutilmente voglio solo segnalare che noi siamo a pochissime settimane dall'apertura ufficiale della stagione turistica nel nostro paese che è Pasqua eh no mi limito solo a ricordare immaginiamoci che cosa sta accadendo però nel frattempo noi vediamo montare perché adesso va bene tutto noi siamo passati ripeto dall'allarme che eravamo one adesso ci dicono tutti che è poco più che un'influenza ma nel frattempo a proposito dei messaggi contraddittori abbiamo visto montare davanti allo Spallanzani una sorta di ospedale da campo delle tende ora sicuramente sono solo precauzioni io lo capisco tutto però c'è un tema che poi la Roballetti dice un'altra cosa capisco io da un giorno siamo tra ieri e oggi io comincio a percepire con le persone con cui parlo il passaggio dalla preoccupazione di cratere sanitario che non è scomparsa ci mancherebbe certo alla preoccupazione economica stanno cominciando a vedere a seconda dei mestieri il simpatico tassista romano io trovo i tassisti romani fantastici per molte cose anche per il loro disincanto che non è comune a quello dei loro colleghi per esempio del nord che mi ha accompagnato qui agli studi della 7 e mi ha detto le do solo un dato io stamattina ho iniziato il mio servizio alle 6 e 30 sono le 2 del pomeriggio ed è la mia sesta corsa normalmente se io oggi fossi stato a casa in termini economici quasi quasi ci avrei guadagnato ci avrei guadagnato allora a questo punto e lo dico al mondo della sanità alle istituzioni a tutti quanti nella testa degli italiani e nel cuore si sta sostituendo almeno in parte questa nuova preoccupazione pensiamo per un attimo che cosa vuol dire per Milano prendere il salone del mobile mi è talmente chiaro che poi ci colleghiamo anche con il Regno Unito io voglio capire pure come ci guardano da fuori e quelli che dovrebbero venire in Italia quanto poco ci pensano a venire in Italia quindi ci arriviamo però Pregliasco io vorrei approfittare della sua presenza e capirle un po' meglio alcune cose che non ho capito quando ho visto montare quella tenda da campo ho detto beh certo è solo precauzione è solo precauzione professor Pregliasco allora l'elemento che spaventa tutti è proprio quello che purtroppo a mio avviso era necessario quello di un'azione di contenimento piuttosto muscolare e molto pesante che ha creato ed è qui la difficoltà una comunicazione difficile ai cittadini perché è un aspetto precauzionale noi dovremo spero nell'ambito anche per rispondere a Telese nell'arco di una settimana capire se questa azione di contenimento ha avuto un effetto ha funzionato oppure no ha funzionato per poi passare a una fase di mitigazione cioè a quella di una situazione che invece che diventare imponente in termini quantitativi perché questo era la nostra preoccupazione troppi casi tutti insieme visto che siamo tutti suscettibili quello che si sta facendo e quello che pensiamo si otterrà al di là di aspetti variegati insomma delle scelte si poteva chiudere alle 18 le 19 ma non c'è scientificità se non la voglia di dire aumentiamo la distanza sociale riduciamo la frequenza dei contatti si poi la messa no però il ristorante si il bar no però il cinema non abbiamo la scientificità è meglio mettere il ristorante però la decisione è questa ritengo che nell'arco di una settimana dieci giorni si vedano gli effetti poi possiamo risponde però pure alla mia domanda perché abbiamo messo quelle tende che quando io le ho viste un attimo di ansia mi è presa ho detto meno male a Roma non c'è nessun problema non c'è un focolai non c'è nulla però compare quella struttura lì sono dei posti medici avanzati per una selezione dei pazienti che eventualmente dovessero arrivare in grande numero in quest'ottica dicevo della seconda fase quella della cosiddetta mitigazione cioè noi sappiamo che bene o male ci potremo infettare in grandissima quantità l'importante è che lo si riesca a fare grazie a questa azione di contenimento in modo un po' più diluito uno alla volta diciamo così ed è qui però ci aspettiamo e quindi ci prepariamo al fatto che ci siano dei numeri importanti e bisogna essere pronti non esagerati e quindi bisogna essere pronti per far fronte alle parti più ai portabate di soggetti più complessi cosa ha detto io l'ho detto prima lo ripeto non voglio entrare nella polemica politica tra il presidente della regione e il premier Conte però mi interessa assai quello che è successo a Codogno ma mi interessa in quanto cittadino cioè io voglio sapere lì dentro che cosa è successo e se quella situazione è replicabile oppure no perché lì lo ricordiamo nel ringraziare i medici gli infermieri stanno facendo il loro lavoro magistralmente lavorando per ore e ore però lì appunto medici e infermieri si sono infettati perché quel paziente non è stato immediatamente individuato come un paziente da coronavirus in aula nel frattempo c'è chi parla con la mascherina sono già un paio di giorni che arriva con la mascherina in aula e sono due o tre giorni che va in aula con la mascherina l'aveva indossata anche l'onorevole dall'osso di Forza Italia allora preghiasco Repubblica oggi c'è un'intervista medici che lavorano nell'ospedale di Codogno dicono nessun ospedale in Italia una settimana fa si sarebbe comportato in modo diverso abbiamo applicato protocolli e direttive dell'Istituto Superiore di Sanità all'OMS e al Ministero della Salute nessuno di loro avrebbe suggerito un tampone e l'isolamento per un italiano con i sintomi classici dell'influenza non reduce dalla Cine che non dichiara contatti con persone provenienti da là appena il quadro è cambiato il protocollo è stato eseguito la mia domanda è semplice è semplice le chiedo una risposta semplice io sono una donna del sud vengo dal sud il sud è straordinario ma ci sono alcuni luoghi al sud peraltro come al nord in alcuni paesi e paeselli in cui gli ospedali sono delle realtà non esattamente all'avanguardia mettiamola così allora lei mi può escludere che in questo momento arrivi in ospedale un paziente in uno qualunque dei paesi d'Italia e che viene trattato esattamente come il 38enne nel caso di Codogno o adesso improvvisamente siamo tutti perfetti e reagiamo così come dobbiamo reagire cioè i colleghi di Codogno avevano la guardia bassa ed era ragionevole che avessero la guardia bassa in quel momento ora in qualsiasi nostro ospedale d'Italia c'è un'attenzione anche a volte fine eccessiva ma ci sta a questo punto il problema è solo garantire io spero e questo è un qualcosa che si sta attuando anche in regione lombardia che abbiano per esempio le mascherine gli occhiali tutta la strumentazione lei mi garantisce che ce l'hanno tutti tutti gli ospedali d'Italia? si sta facendo in modo che ce l'abbiano e può darsi che non tutti abbiano una quantità adeguata ma ritengo che in qualsiasi ospedale l'accesso al pronto soccorso in tutti gli ospedali d'Italia è diversificato per chi dovesse avere problemi di questo tipo? in questo momento no ma si sta attivando sono nelle regioni in cui c'è la problematica più evidente attuato questo nelle altre si sta organizzando alla luce di una progressione che speriamo non sia troppo rapida aspetta Luca apriamo un attimo il collegamento chi è in collegamento è Elena? Elena da Lombardia Elena Testi sempre Lombardia sempre diciamo siamo al confine con la zona rossa ti vorrei far vedere sì qui siamo in un altro checkpoint qui adesso stanno caricando le persone che sono all'interno della zona rossa scusate che cosa state caricando? per le vacche quindi per gli animali? ok perché non potete fuoriuscire non potete andare quindi ve li portano qua grazie mille quindi Tiziano non so se avete capito questi sono alimenti per gli animali che si trovano all'interno della zona rossa vengono portati qui proprio al checkpoint caricati e poi portati all'interno dove si trovano le aziende che come vi abbiamo detto prima ancora sono chiaramente attive e gli animali giustamente hanno bisogno di essere alimentati è la mia provincia grazie Elena al telefono chi c'è? Cinzia? Cinzia che chiama Danola? sì salve buonasera 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 faccia pure la sua domanda grazie allora buonasera a tutti la mia domanda è relativa all'ordinanza regionale numero uno della campagna emanata ieri sulle misure per il covid-19 in questa ordinanza si pone l'attenzione su coloro che cito proprio testuale dal documento negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in campagna dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle autorità sanitarie delle regioni di pertinenza dalle aree della Cina e da altre aree del mondo di conclamato contagio la mia domanda è relativa a questo cosa significa queste aree sono riferite solo alle zone rosse anche alle zone gialle o a tutte le regioni in cui si sono verificati casi di contagio grazie per la domanda mi pare una domanda assai sensata nel ricordare che appunto c'è stata una distinzione in zone rosse zone gialle zone verdi quello che abbiamo capito noi però aiutatemi Telese e Allarditti in tre minuti possiamo spiegarlo bene cita la Cina l'ordinanza però mi pare di capire che è l'unico un paese diverso dall'Italia che cita se io arrivo da Singapore mi devo no dice anche le altre zone in cui ci fosse quali sono l'Iran sì o no eh no infatti c'ha ragione la signora Cinzia che dice forse ci dovrebbero dare dichiaramenti ma anche dall'Italia dall'Italia 14 se sei tornato da 14 giorni dalla zona rossa professor Pregliasco lei ne sa di più no 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 dalla zona rossa che sono i famosi 11 comuni 11 comuni c'è un elenco tant'è che mi è capitato di andare in alcune aziende eccetera c'è un elenco dove bisogna dichiarare all'ingresso se no non si entra che non si è pervenuti da queste zone quindi sono le città oggetto della quarantena e i paesi a rischio e c'è l'elenco nel è vero la circolare è stata generica perché c'è l'intenzione di aggiornare allargando o sperabilmente riducendo questo ambito e quindi nel sito del ministero della salute c'è l'elenco aggiornato dei luoghi città barra nazioni che sono la considerare quindi se si è tornati da quei comuni lì dei comuni che oggi sono nella zona rossa poi se si è tornati dalla Cina e fino a qui è chiaro da altri paesi considerati a rischio boh lei lo sa fare l'elenco preghiasco non ce l'ho sotto mano bisogna guardare sul sito del ministero della salute allora ci si approvi a cercare sul sito del ministero della salute certo che è tutto abbastanza complicatuccio no? no sì in questo momento abbiamo un'unica risorsa che è il rilancio della competenza sono stati anni dominati non contava nulla anzi era quasi un difetto anche in politica il rilancio della competenza cioè in questo momento quello che dobbiamo fare è fidarci di chi ne sa però chi ne sa deve concordare quantomeno una linea unitaria perché tu non puoi sentire dire è poco più di un'influenza e poi no è una situazione grevida perché è così che si semina il panico però questa è la politica ci sono informazioni la politica deve decidere e deve anche saper incalzare i competenti perché abbiamo scoperto che i virologi sono come i politici italiani nel paese delle divisioni hanno 30 opinioni diverse e io faccio per esempio una provocazione dovremmo sopprimere non so se su questo Pregliasco è d'accordo ma credo che sì dovremmo sopprimere quel contatore luttuoso non ci sono 12 morti in Italia e tra 5 minuti saranno 13 di questa epidemia ci sono in Francia 100 morti per complicazioni influenzali circolatorie per malattie renali per malattie polmonari e questi morti non sono computati magari sono 100 perché statisticamente più o meno siamo lì ed erano 100 anche in Italia prima adesso scorporiamo questi 12 perché il tampone ci ha dato una paternità e questi numeri sono una condanna a morte per l'economia di questo paese ha ragione Telese il governo della competenza o meglio consegnare alla competenza la patente unica per decidere è per quanto paradossale possa apparire pericolosissimo nel senso che poi a un certo punto poi ci sono delle scelte che sono politiche ma non c'è alcun dubbio ed è l'unica salvezza che abbiamo perché altrimenti io tra l'altro ho un qualche fastidio se sento che la politica mi dice forse gli altri stanno facendo i furbi perché allora dicono noi stiamo facendo i fessi diciamo mi viene questo dubbio così è brutta mi piace quando sei cattivista è così però scusate certo che è così adesso se abbiamo un tasto attivo devi essere velocissimo nel cartello 6 alla signora che ci ha chiamato prima parlava di scuole nelle zone verdi si parla nella bozza che circola nel secondo decreto emergenze coronavirus adozione di misure di cautela è il primo punto e poi c'è il divieto di chiusura delle scuole e di qualsiasi intervento che possa bloccare l'attività economica fatta eccezione per le marche per le marche c'è stata una polemica segnalo in chiusura su Milano coronavirus in Lombardia bar aperti anche dopo le 18 ma solo con servizio al tavolo cambia l'ordinanza per andare incontro agli esercizi ecco vedi che qualcosa si muove qualcosa si muove Arditti e Telese non li trovate dopo la pubblicità andranno via separati dal resto della redazione dello studio nessuno li toccherà non ci vediamo che poco per gli altri ancora qui vi aspettiamo tra poco allora di nuovo in studio Marita Lombardo Pigliola si è guadagnata il divano nel frattempo ci ha raggiunto Don Pietro Sigurani il cuore della basilica di San Teostacchio a Roma Don Pietro me la dice subito subito una cosa ma i suoi poveri quelli che lei segue tutti i giorni ne parlano del coronavirus no non ne parlano non hanno paura non usano mascherine io ogni giorno ne metto 200 250 oggi erano 250 e anche di più forse ma parlano di dove andare a dormire la sera parlano di dove trovare hanno altre paure diciamo con cui fare conti le paure sulla sopravvivenza quotidiana altro che coronavirus ma un'altra cosa però è che nessuno si è mai preoccupato se tra i poveri ci sia la coronavirus ai poveri il tampone non è stato fatto a nessuno vabbè il tampone viene fatto a chi è sintomatico quando si presenta e chi ama ma tanti poveri si ha con la tosse tanti poveri che col catarro tanti sapessi tu Tiziana sapessi ma nessuno dice che se ne preoccupano meno se ne preoccupiamo meno ti dico una cosa che alcuni medici che vengono a curarli hanno detto per 15 giorni non veniamo perché non passa la paura questa è una brutta cosa Jacopo Tondelli bentrovato bentornato a Tagadà è rimasto con noi il professor preghiasco lo dico per tutti quelli che stanno chiamando ve lo prometto passeremo ancora delle telefonate mi aprite il collegamento con Alessandra Borella che si trova sempre ad Abano Terme Alessandra eccoci sì Tiziana mi scappa mi scappa l'ospite perché lo sta facendo congelare vieni qua Umberto Carraro lui è presidente del consorzio Terme Colli e ci spiegherà un po' potete vedere la piscina alle nostre spalle dovreste poter vedere la piscina il destino di queste piscine che lo ricordiamo sono ipertermali le uniche al mondo vuol dire che l'acqua esce naturalmente a 87 gradi quindi sono caldissime e le raffreddano a 37 gradi sono piscine famose in tutto il mondo che in questo periodo soffrono perché quante cancellazioni ci sono state Umberto? Buon pomeriggio buon pomeriggio Tiziana tante sono state tante cancellazioni le stimiamo in circa il 40% per il mese di marzo e per il mese di aprile ma si sono spinte anche verso maggio e giugno quindi sicuramente la situazione è grave ed importante e Umberto ci fai capire i numeri cioè voi in condizioni normali a marzo quante persone avete in hotel? e da dove arrivano soprattutto? dipende è variabile allora diciamo che diciamo che marzo per noi è l'inizio della stagione siamo stati anche parzialmente fortunati nel senso che il mese di febbraio molte strutture da noi sono ancora chiuse e stanno aprendo adesso da un punto di vista di fatturato il fatturato stimato perso è tra i 10 e i 20 milioni di euro circa sulla destinazione la nostra la nostra destinazione raccoglie 3 milioni e 200 3 milioni e 300 mila presenze durante un anno quindi divise più o meno equamente su base mensile quindi da dove vengono i vostri ospiti? gli ospiti vengono per il 50% più o meno dall'Italia un 30-35% di lingua tedesca e il resto equamente è suddiviso tra francesi e di lingua russa e hanno paura? perché hanno paura? ma la paura è un sentimento irrazionale molto spesso in realtà non ci sono motivi oggettivi Umberto ma quando chiamano per disdire cos'è che dicono? cioè chiamano e dicono non veniamo perché abbiamo avuto un problema o ve lo dicono in maniera chiara? non veniamo non veniamo perché non ce la sentiamo perché abbiamo paura del coronavirus esatto evidentemente Abano, Montegrotto e le Terme Ogane sono fuori dall'area rossa ad oggi non hanno avuto casi non ci sono motivi per temere anzi di più io aggiungo che siamo degli stabilimenti sanitari accreditati con il sistema sanitario nazionale ogni struttura ha al suo interno un direttore sanitario dei medici visitatori applichiamo delle normative strettissime sul controllo della nostra acqua delle nostre piscine dell'altro contagio che non è da coronavirus ma è da paura e quindi è il contagio economico che arriva in funzione della paura anche in uscita Tiziana se mi permette di dirlo io so per certo di aziende multinazionali che hanno bloccato i loro dipendenti italiani che stavano per partire in missione di lavoro più di una certo a queste persone è stato detto non dobbiamo piacere quindi bloccati anche in uscita Umberto in bocca al lupo io spero che la situazione si vada a normalizzare nelle prossime settimane e che quindi ci sia poi un'inversione di tendenza lo spero davvero lo spero per voi ovviamente e lo spero per il sistema paese perché insomma poi stiamo parlando di tanti soldi quindi vale poi per tutti noi no? Alessio che succede dimmi come stiamo raccontando come da fuori stanno raccontando l'Italia ci sono diversi paesi che hanno preso delle misure contro noi il primo è quello che ha fatto un po' più rumore è stato la Francia il ministero della salute francese ha elencato alcuni paesi alcune zone più a rischio relativamente al coronavirus e insieme alla Cina insieme ad altri territori asiatici sono state inserite la Lombardia e il Veneto e poi c'è la Giordania che ha introdotto il divieto di ingresso nel paese per i cittadini stranieri che provengono dall'Italia a meno che abbiano lasciato il nostro paese da più di 14 giorni l'Iraq le Seychelles la Spagna non si è ancora mossa ma ha sconsigliato ai suoi cittadini di andare in Lombardia Piemonte Emilia Romagna e Veneto se non è strettamente necessario e poi alcuni casi eclatanti come quello delle Mauritius per esempio quello delle Mauritius è bellino mi piaceva commentarlo con Tondelli perché diciamo prima gli africani verrebbe da dire no? beh diciamo diciamo che comunque adesso faccio una piccola nota per la prima volta in tanti anni che collaboro con la vostra trasmissione la mia richiesta di potermi connettere direttamente da Milano senza venire a Roma nessuno ha detto no no vieni a Roma assolutamente no 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 stai pure a Milano stai pure a Milano state tra di voi esatto quindi ecco due volte due volte no questa è una situazione che sì adesso di colpo stiamo sperimentando e al di là delle Mauritius che diciamo così ci colpisce la vicenda ma tutto sommato l'impatto è ridotto fa più impressione la Spagna che dice non andate in Lombardia in Veneto Milano è stato rinviato perché le cancellazioni erano davvero un mare un fiume il Salone del Mobile che è un grande evento che di fatto si che muove milioni e milioni si muove milioni e milioni e segna simbolicamente da sempre l'inizio un po' della primavera dell'epoca in cui si sta all'aperto anche a Milano anche quando c'era l'inverno a Milano diciamo così che non è stato questo il caso e questa la stagione è una situazione interessante perché obbliga di sicuro a guardare soprattutto dalla nostra città che in questi anni si sente capitale da tutti i punti di vista più capitale della capitale a sentirci a guardarci insomma con un occhio un po' più fragile diversamente diciamo mi aprite il collegamento con Enrico Franceschini Enrico Franceschini giornalista scrittore storica firma di Repubblica ed è collegato dovrebbe essere eccolo qua collegato con noi dalla capitale del Regno Unito ben trovato Franceschini e ad un certo punto diciamo che il problema siamo diventati noi noi italiani intanto come la trattano lì la guardano con sospetto nelle ultime ore beh certo con preoccupazione l'ultima notizia è che è stata annullata la partita del torneo sei in azioni di rugby doveva farsi in Irlanda Irlanda Italia è stata annullata come sono state annullate i tali altri impegni in cui italiani dovevano venire qua io dovevo andare a un seminario a Oxford è stato cancellato perché gli ospiti italiani non erano più tanto benvenuti oppure non erano nella possibilità di venire e nello stesso modo il ministro della sanità britannico ha detto che i cittadini britannici dovrebbero evitare i viaggi non essenziali non assolutamente essenziali in Italia ma i cittadini britannici cosa pensano dell'atteggiamento del nostro governo che giudizio hanno delle scelte prese dal governo italiano ma per adesso non ci sono critiche da parte dei cittadini dei media o anche del mondo politico ogni paese cerca di reagire in maniera simile se c'è una critica che viene fatta qualche politico ha detto in Italia avete interrotto i voli con la Cina e forse questo ha fatto sì che chi voleva rientrare è rientrato passando magari dalla Germania dalla Francia da un altro paese non è stato possibile monitorarlo e quindi forse sono proprio costoro che hanno portato l'infezione del coronavirus in Italia ovviamente c'è molto forte anche in Italia si è fatto bene o si è fatto male ad avere un atteggiamento peraltro diverso dagli altri paesi europei e questo è un po' il punto cioè di nuovo non si è vista tanta Europa cioè davanti ad un'emergenza come questa non si è visto diciamo il sistema Europa ciascun paese ha reagito come ha potuto allora mi chiedo il Regno Unito che adesso è in quella via di mezzo cioè sta andando via quindi oramai sta facendo la strada per uscire e di fatto è uscito e allora mi chiedo lì quanto il Regno Unito abbia tirato un sospirio se lei abbia detto ah meno male che non abbiamo più niente a che fare con questa Europa o che non avremo niente a che fare è un'osservazione giusta chi ha votato per la Brexit a questo punto dice vedete che avevamo ragione come avevamo ragione a non fare parte del sistema di Schengen e così almeno abbiamo dei confini che possono essere controllati di più di altri paesi in Europa quindi parafrasando la vecchia battuta nebbia sulla manica il continente è isolato adesso i britannici sono contenti di essere un'isola a questo punto anche se non è detto che i casi non arrivino anche qua hanno fatto moltissimi tamponi moltissimi test 10.000 test più o meno abbiamo letto più che in Italia e per ora senza soltanto 13 casi sono stati riscontrati di cui 8 già usciti d'ospedale senza conseguenze però si aspettano che crescano infatti 100 ambulatori ospedali cominceranno a fare dei test a tappeto su tutti coloro che hanno i sintomi di influenza perché pensano che potrebbe essere che ci sia una diffusione che non è ancora risultata della malattia e poi cercano di evitare il ripetersi del panico che abbiamo visto in Italia per cui il governo ha detto le scuole devono rimanere aperte ma 30 scuole già autonomamente hanno chiuso perché sono tornati dei ragazzi inglesi dalle settimane bianche sugli sci sulle Alpi in Italia e per precauzione li hanno tenuti a casa così tutti quelli che rientrano dall'Italia del nord se hanno sintomi sono obbligati a mettersi in quarantena obbligatoria a casa propria e chi fosse stato chiunque ha sfiorato un italiano va in quarantena cioè questo è il tema un po' sì un po' sì ma lei aveva per caso preso dei biglietti per tornare in Italia? cioè qual è la situazione? io devo dire io sono stato io sono stato in Italia fino a pochi giorni fa e ho una notazione personale da dire in Italia in due aeroporti a Bari e a Milano mi hanno preso la temperatura quando sono uscito dall'aereo a Itro a Londra quando sono arrivato no sono arrivato dall'Italia con un volo da Bologna non c'è stato nessun controllo e se evidentemente si fidano di lei dicono no questo qua non può essere che è malato si vede si vede si vede occhio si vede occhio Tiziana ad ogni modo si sta allertando anche in Nord Africa si sta allertando l'Algeria io sono stato sono dovuto andare a trovare degli handicappati che abbiamo nel Sara a Tunisino mi hanno preso ai voli italiani hanno preso la temperatura prima di farci sbarcare si sta allertando anche in Nord Africa solo l'Algeria l'Algeria non prendono la temperatura il resto del mondo noi li rifiutiamo e loro cominciano a rifiutare noi si chiudono di poi si chiudono di poi è la legge del contrapasso Franceschini grazie per essere stato collegato con noi noi magari ci avanti torniamo a disculparla però grazie davvero per il momento vedo la povera Elena Testi che ormai è non voglio dirla questa parola è molto chiara in viso ed è scomposta dal vento io direi anche che magari vai in un posto dove sei più protetta Elena con un cappello chic oppure trovi un magnifico cappello chic guarda allora facciamo così Tiziana mi tiro sul cappuccio del cappotto così almeno sono protetta allora qui siamo a uno dei check point più diciamo lei continua a dire check point che fa una certa impressione per chi poco poco ha seguito qualche conflitto allora fa una certa impressione assolutamente fa impressione però chiariamo questo lo chiamano loro in gergo così cioè sono numerati e chiamano il check point numero uno il check point numero due quindi vengono proprio chiamati così da loro nonostante non è una guerra però chiaramente qua ci sono quelli che noi chiameremo posti di blocco e quindi loro in gergo tecnico li chiamano così va bene e mi dovevi dire qualcosa in particolare di questo check point no ti stavo dicendo vedi qua ci sono delle persone che camminano questa è una delle zone più trafficate e loro continuano a camminare vanno a fare footing queste sono tutte le case fino adesso abbiamo assistito a scene continue di solidarietà di persone che arrivano e portano i detersivi i giornali le sigarette tutto ciò che non riescono a trovare dentro perché magari sono ben finiti quindi chiamano i comuni limitrofi che sono dette zone gialle perché ricordiamo come l'avete detto più volte sono le zone gialle le zone rosse le zone verdi vengono dalle zone gialle e le portano in gesto di solidarietà alle zone rosse e quindi sono e li lasciano da qualche parte dove poi gli altri li vanno a prendere li lasciano esattamente no li lasciano in mano alle forze dell'ordine che poi fanno la distribuzione qui ci sono anche i carabinieri che le portano esatto le distribuiscono grazie Elena adesso per Don Sicurani ho un piccolo omaggio nel senso che oggi è mercoledì delle ceneri è certo ed è un mercoledì delle ceneri digiuno e assinenza com'è? digiuno e assinenza lo dica ad Alessio Orsinger ho capito perché lo deve dire a me eh secondo me ma Alessio si vede che ha digiunato guarda come è magro guarda come è magro fatemi vedere dov'è che siamo andati per raccontare il mercoledì delle scene ti viene da ridere però a Padova diciamo anche la testa a Padova a Padova a Padova vediamo il servizio è un po' strano perché non abbiamo mai vissuto una situazione del genere ok questa è un'agenzia tedesca di un gruppo che dovrebbe venire il 19 di aprile vedi ci sono tre notti 50 persone puoi immaginare insomma a causa del coronavirus hanno deciso di cancellare il viaggio sì siamo arrivati in soli due giorni ad avere cancellazioni per più di 40.000 euro il virus della paura ha fermato la città dai ristoranti sui colli che sono chiusi agli albergatori di Padova che subiscono cancellazioni su cancellazioni ma c'è una cosa che si è fermata e non succedeva dai tempi di Napoleone Bonaparte che l'aveva trasformata in una caserma la basilica di Sant'Antonio è un momento di precarietà e di difficoltà tanto anche se si deve prendere si prende se viene viene se mi capita morirò di virus sono 89 anni tanto vada o di prima o di poi o di qualche cosa la vita di Padova è cambiata come quella di tutti è un disastro è un disastro perché mercoledì è delle ceneri senza le ceneri no non si ferma la piglia niente celebrazioni niente benedizioni niente messe questa sera il Vescovo la celebrerà a porte chiuse in diretta su Youtube quindi le persone possono venire qua possono venire qua prendere il sussidio pregare in casa noi abbiamo mandato via Whatsapp via Facebook indicazioni significa una perdita un senso di mancanza grande noi stiamo cercando di rimandare questo messaggio che di fronte alla Quaresima che inizia questa mancanza un po' ci richiama la nostra non onnipotenza e anche un senso di povertà estrema della nostra condizione umana polvere sai polvere ritornerai viene viene pronunciato viene detto ho proprio paura questi bigliettini fa a me eccoci qua di nuovo in studio no stavo dicendo a Don Pietro polvere sei polvere tornerai usare usare queste cose è un po' strumentalizzazione vero ma perciò mi piace erere Don Pietro in studio vorrei che fosse chiaro allora chiedo però metà del diciamo metà Italia il centro nord Italia oggettivamente sta passando mercoledì delle cene è diverso dal solito no che cosa significa per la comunità per le persone anziane che comunque rispetto a quegli appuntamenti è anche un momento di coesione un modo per stare insieme un modo per sentirsi uniti certo io avrei trovato avrei trovato un altro modo non si può fare in chiesa lo facciamo sulla piazza no? per esempio dove c'è meno possibilità di contagio cioè scegliamo un posto molto ampio nel quale non c'è il pericolo del contagio abolire abolire vuol dire un po' aumentare la paura e noi non dobbiamo aumentare la paura noi dobbiamo essere molto obiettivi la chiesa deve essere obiettiva oggi il Papa fa la sua processione la sta facendo adesso però noi stiamo parlando di quelle zone d'Italia che sono nella zona rossa nella quale è vietato qualunque tipo di contatto è vero però io credo Don Pietro non piace questo provvedimento mi pare di capire no 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 nelle chiese forse sì forse sì ma per esempio il provvedimento che è anche stato dato a Roma della comunione sulle mani ma abbiate pazienza ma io ogni volta che do la comunione sulla lingua alle persone alla fine le mie dita sono una collezione di salive una collezione di salive sono no quindi è adesso vai sentiamo il virologo che le darà delle istruzioni è un provvedimento a mio avviso oltre al simbolismo che ha un grosso simbologia no la mano a forma di croce nelle difficoltà della mia vita viene il signore vero questo è il simbolismo antico ma su l'igiene ma l'igiene ma io vero vengono persone anziane vengono dei giovani poi scambia diciamo io io do la particola e lettano la saliva dell'altro ma che meraviglia ma non si può diciamo no non so allora mi rivolgo a pregliasco prima perché pregliasco fra poco ci deve salutare e io ci tengo che risponda anche perché se no non esco dalla redazione mi ritrovo davanti alla redazione ci hanno chiamato tanti che vogliono le sue risposte però vuole prima dare qualche consiglio a Don Pietro no ma ci ho chiesto pregliasco ha ragione Don Pietro ha ragione effettivamente è un rischio professionale il suo è un rischio professionale serio è bello il rischio professionale che lui non vuole far correre anche a tutti noi dottore di fatti la liturgia dice che alla fine di aver dato la comunione bisognerebbe lavarci le dita con dell'acqua e bere quell'acqua io non lo faccio io lo sconsiglio allora c'è Daniele al telefono Daniele che chiama da Trento buon pomeriggio se mi sente lo sento grazie per l'opportunità prego prego faccia pure la sua domanda al professor pregliasco prima della domanda prima della domanda vorrei dire che a proposito dei ceneri ne vorrei vedere un quadro industriale sul capo di questa classe politica che altamente ha dato dimostrazione di schizofrenia assurda per come ha gestito e comunicato il problema allora la mia domanda per il professore è questa c'è stato un periodo in cui in Italia c'erano un vero caso diciamo a parte i due cinesi ricoverati da Sparanzani mentre in Germania ce n'erano 16 e in Cina si stava a mano a mano sviluppando la cosa con delle cifre mi chiedo ma non si poteva prevenire in Italia intanto cominciando con una comunicazione spiegando qualcosa di più intanto dicendo sarà possibile anzi succederà che anche in Italia avremo dei casi e da lì cominciare a spiegare bene di cosa si tratta perché quando io vedo per esempio il dato cinese il dato c'è questo scorre su questi televisori continui di 2700 passamorti dove ci dicono che è il 3% di percentuale bene è un dato scorretto al massimo perché percentuali di cosa non sappiamo esattamente quanti sono i contagiati eccetera eccetera quindi la domanda è se ho capito bene potevamo organizzarci meglio e diversamente quando ancora i casi erano limitatissimi vale a dire i due cinesi a Roma e poi il ricercatore italiano tornato da Wuhan questa è la domanda ho capito bene sì anche perché in Germania sono rimasti in 16 casi noi adesso ne abbiamo 300 ma si poteva ma si poteva chiaramente informare meglio la popolazione allora Daniele la domanda la giriamo a Pregliasco chiedo a tutti quelli che ci chiamano di essere brevi nelle domande così possiamo fare più domande al professore professor Pregliasco ovviamente questa è una domanda che ci siamo fatti tutti no? è chiaro dal punto di vista tecnico è difficile dire se qualche azione operativa poteva risolvere questo problema perché io ritengo che appunto l'ho già detto anche prima dei casi c'erano già e sono emersi semplicemente sono emersi ad un certo punto il problema dell'informazione credo che a questa volta ci sia stato dato l'occasione di capire come fare rispetto a un problema istituzionale che doveva essere affrontato in questo modo e alla modalità con cui affrontarlo credo che spero che nei prossimi giorni ci sia un aspetto di riduzione della modalità di comunicazione che angoscia mi viene in mente un parallelo rispetto però che a proposito della modalità di comunicazione che angoscia le immagini abbiamo visto prima c'era Marita Lombardo Pigliola che era diventata verde perché guardava la parlamentare che interveniva con la mascherina questo è assurdo assurdo ho anche quando ho visto le colleghe e i colleghi che come fanno i bravi giornalisti vanno fanno il loro lavoro avendo sulla bocca solo un microfono davanti alla bocca non una mascherina nelle zone a rischio e questo si chiama senso di responsabilità come quello di Don Pietro che fa il bagno nella saliva e questo si chiama senso di responsabilità io mi chiedo come sia possibile davanti a un'indicazione precisa non servono le mascherine preghiasco me lo conferma non servono le mascherine se non alle persone che sono malate corretto per proteggere gli altri allora tu hai medici agli infermieri quando stanno lavorando in ospedale con persone malate la tua responsabilità di parlamentare che quindi manda dei messaggi che dovrebbe dare un esempio ecco io vi dico penso che siccome in tutte le cose brutte c'è sempre un lato positivo sarebbe bellissimo se in questo momento la politica governo e opposizione al di là di ogni possibile speculazione più o meno cabarettistica ritornasse all'essenza della politica cioè la cura degli interessi generali e non degli interessi elettorali allora non so se è già al telefono Nadia fra un attimo arrivo da Nadia intanto chiederei a Tondelli di buttare via le mascherine che ha nascosto sotto la sedia perché noi lo conosciamo e Alessio che succede? Marida ha citato l'umerole Baldini di Fratelli d'Italia che è un medico nella vita peraltro quindi peraltro un'indicazione ulteriore che la interviene dare lei ha detto come medico è una scelta che consiglio poi i miei colleghi sono liberi di comportarsi come vogliono una foto che ha fatto il giro del mondo peraltro segnaliamo ma santo è un sacchio santo è un sacchio eh Senato Parlamento io ne vedo pochissimi di parlamentari mascherati Tondelli ha anche una battuta su questo e arrivo da Nadia che poi preghiascono ad andare via segnalo solo che qualche collega che fa la cronaca parlamentare ieri diffondeva le fotografie delle regole che ci sono nei bagni di Montecitorio per il coronavirus è come lavarsi le mani in 12 punti quindi evidentemente diciamo i nostri parlamentari hanno bisogno di essere istruiti in 12 un dodecalogo sul lavaggio delle mani 12 punti non è male 12 punti cioè 10 dita più 2 esatto una cosa complicata assai Nadia Nadia ci chiamate a Roma prego Nadia buongiorno Tiziana buon pomeriggio buon pomeriggio intanto complimenti a te e ad Alessio per come conducete la trasmissione grazie e per i vostri occhi che non sono mai per i maleducati in ruoti come di solito succede le mie altre trasmissioni grazie 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 allora la mia domanda è come puoi sentire io ho la voce rauca ho il raffreddore e un po' di tosse senza febbre prendo i mezzi pubblici e io come faccio a sapere che non sono un potenziale contagiatore di coronavirus e qualcun altro più debole di me lo può prendere e ammalarsi seriamente devo andare in giro con la mascherina non deve andare in giro con la mascherina dov'è che è residente ho perso a Roma a Roma a Roma prendo mezzi pubblici che sono super pieni allora io dico ho una domanda pure sì sì l'aria condizionata degli aerei può essere un veicolo no allora gli aerei hanno dei sistemi di segmentazione che identificano spazi di sei file di sedie tant'è che si è visto come il rischio è assolutamente limitato è chiaro che non si sa mai se si è seduti davanti due file o dietro due file a un soggetto a rischio quindi il rischio in questo momento lo corriamo tutti su questo coronavirus e su altri tipi di virus dal punto di vista pratico in Roma può darsi che ci sia qualche soggetto ma io ritengo che in questo momento nella capitale non ci sia quella situazione che ci spaventa di più in Lombardia professore ne approfitto per farle io una domanda lei dice a Nadia siccome vive a Roma Roma non è una zona considerata a rischio non è né zona rossa né zona gialla giusto è zona verde pur essendoci stati tre casi ricordiamolo perché è una buona notizia due sono guariti completamente guariti il ricercatore e la signora siccinese che è stato il caso uno in Italia la signora cinese che era stata ricoverata allo Spallanzani no lo dico perché pure le buone notizie vanno date dopodiché quindi Roma è zona verde la domanda è se io ho un dubbio ho l'angoscia c'ho un modo di andarmelo a fare questo tampone privatamente lo posso fare il tampone no no è impossibile bisogna usare i laboratori di riferimento non ci sono laboratori privati che lo eseguono e sarebbero assurdita e vogliamo dirlo ingolfiamo il lavoro poi degli istituti che devono fare la ricerca assolutamente l'istituto è sempre lo Spallanzani ad esempio per il Lazio ci sono diversi altri reparti in pratica il meccanismo è a tre livelli primo laboratorio un laboratorio di riferimento regionale e poi l'istituto lo Spallanzani e l'istituto superiore di sanità quindi diciamo che se noi anche avessimo l'opportunità di andare in uno studio privato dobbiamo ricordarci che ingolferemo il lavoro di tutti questo è il tema inutilmente assolutamente non è previsto e non lo farebbe nessuno la signora in questo momento a Roma può avere una delle forme simili influenzali di questa fine stagione e quindi credo che davvero debba essere serena e tranquilla ora Nadia non si deve preoccupare ma in quale caso dovrebbe preoccuparsi che consiglio le possiamo dare se le viene la febbre ma direi che in questo momento su Roma e sulla parte centro nord sud Italia è influenza è chiaro che è un concetto a questo punto di precauzione di sentire di telefonare al proprio medico di famiglia e con lui definire quelle che possono essere elementi successivi di approfondimento per ora può stare tranquilla Gabriella dalla provincia di Foggia è al telefono? non c'è ancora Gabriella c'è qualcun altro ditemi non ancora però adesso problemi di telefono perché mi pare che stiano c'è una richiesta da Twitter il nostro hashtag all'esperto chiedo sono operatore sanitario diabetico insulino dipendente quanto rischio? un piccolo rischio aggiuntivo c'è in questo caso vale la pena di riferirsi al medico competente quindi al medico che si occupa della protezione sanitaria in generale dei dipendenti in particolare degli operatori sanitari alla fine di profilare eventualmente delle mansioni che non siano direttamente a contatto con il pronto soccorso con la terapia intensiva e quindi ribadire che nella vita quotidiana nei reparti ospedalieri in genere si sta assolutamente sereni è chiaro che magari in pneumologia non è il momento giusto per mettere questo collega e quindi diciamo dovrebbe essere la sua azienda ad organizzarsi in funzione del tipo di patologia che lui ha e se no per esempio in questi casi è consigliabile la mascherina una mascherina veramente particolari però davvero è un elemento è stato suggerito questa tipologia di approccio sempre su specifica indicazione del medico competente allora professor Pregliasco io non la lascerei andare però siccome me l'hanno detto quelle 25 volte che lei alle 16 e 30 ci doveva salutare devo andare ahimè la saluterò grazie per essere stata con noi grazie davvero nel frattempo vedo collegate due persone uno Ivo Tarantino di Altro Consumo ben trovato benvenuto a Tagadà e l'altra ho la sensazione che sia Silvia o seduti al tavolo è Silvia che parla al telefono e non si accorta di noi va bene va bene sentiamo la telefonata di Silvia povera me Silvia ci stavamo facendo un po' di fatti suoi ti parli ero che lei mi ha fatto fatti testa ci deve salvare panella giuro ci deve salvare la prego che cosa io la devo salvare la vedo complicata Silvia mi attribuisce diciamo delle possibilità deve chiamare quelli della cof commercio quelli dell'epam deve piazzarlo lì e spiegarci chi può stare aperto chi non può stare aperto che cosa possiamo vendere che cosa non possiamo vendere dopo le sei perché le giuro mi viene da piangere ero al telefono adesso e ho detto io non ce la posso fare allora Silvia per quei pochissimi che non la conoscono perché i spettatori di Tagadana la conoscono è una gelataia quella è la sua gelateria nel cuore di Milano e sta messa così e noi lo giriamo l'appello a chi di competenza non so Tondelli a chi possiamo chiedere informazioni no lei deve far venire lì uno della cof commercio deve piazzarlo lì e chiedere quali sono i fatti adesso mi dà pure gli ordini Silvia e poi devi fare le ABC quindi chi devo chiamare la cof commercio? sì c'è una confusione folle l'assicuro perché fino a lunedì mi dicevano che dovevo togliere i posti a sedere e che dopo le sei dovevo chiudere allora io gli ho detto ma perché io devo chiudere e il mio vicino può stare aperto? allora mi ha detto se lei toglie il caffè i frullati e da soli i gelati può stare aperto adesso invece ci mi hanno detto totalmente il contrario mi hanno detto mi è venuto il mal di testa pure a me è venuto il mal di testa anche a me aspetti solo un attimo intanto le dico già lei domani perché oggi non faccio in tempo però lei domani si ricollega con noi e io le faccio trovare la cof commercio così almeno le spiegano tutto per venino però adesso proviamo a dare una prima risposta perché come diceva Silvia sono cambiate un po' le regole in queste ore da oggi i bar di Milano e della Lombardia potranno restare aperti anche dopo le 18 leggiamo testuale nel sito della regione i bar e o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti ma cosa sono questi bar e pub e pub è la categoria gelateria non sappiamo se rientri rientra nella categoria bar pub c'era l'emergenza non lo so c'era l'emergenza aperitivo a Milano per cui non ce la facevamo più e quindi intanto abbiamo riaperto i bar poi vediamo va bene io prometto che ci facciamo carico della disperazione di Silvia e domani cerchiamo di sono tutti che non capiscono e no no ho capito ho capito adesso ce lo studiamo pure noi chi non ha il pane non può stare aperto allora aspetti aspetti Silvia perché non è l'unico problema diciamo del coronavirus perché ci sono in azione anche come sapete gli sciacalli io li chiamo come si chiamano sono sciacalli quelli che approfittano delle situazioni di difficoltà e allora un minimo di istruzioni per l'uso cosa fare cosa non fare per il virus chi ci guadagna più in generale a parte gli sciacalli con il virus vi faccio vedere non è una guerra non è una carestia non ci sono prezzi calmierati e quindi tecnicamente non c'è neppure un mercato nero anche se davanti alle stazioni gli abusivi spacciano mascherine da pittura per salvavita a caro prezzo c'è il libero mercato più che libero selvaggio e infatti mentre la corsa ai disinfettanti svuota farmacie e supermercati sulle piattaforme di e-commerce il prezzo lievita soluzioni igienizzanti che prima del 22 febbraio costavano meno di 4 euro ora arrivano a 23 il rincaro supera il 530% su ebay un litro di amuchina ha sfiorato gli 800 euro com'è possibile? semplice a venderle online non sono le farmacie le cui vendite online sono regolamentate ma parafarmacie e venditori web la piattaforma che li ospita Amazon per esempio tecnicamente può lavarsene le mani affitta uno spazio ma poi le speculazioni non sono affari né guadagni suoi infatti se cerchi coronavirus trovi simpatiche felpe con loghi virali filtranti per l'aria inefficaci mascherine inadeguate cosa fare se tutti ci dicono di lavare le mani ma poi solo chi è ricco o fortunato lo può fare? le procure come quella di Milano avviano indagini sulle speculazioni le associazioni dei consumatori chiedono a gran voce all'Europa che in questo e in altri casi le piattaforme online si assumano la responsabilità della sicurezza dei prodotti che ospitano alcune farmacie comunali si stanno attrezzando per produrre disinfettanti a prezzo di costo Amuchina sta aumentando la produzione anche se promette non aumenterà il prezzo eppure in Parlamento c'è chi protesta tutto il gruppo PD alla Camera ha sottoscritto l'iniziativa di Marianna Madia che dice bisogna impedire speculazioni sui prodotti igienico-sanitari e chiede che il governo Conte intervenga Allora Tarantino le ha preparato per noi un breve vade mecum che ci dovrebbe aiutare a non incappare negli sciacalli di cui sopra lo guardiamo insieme è diviso per punti il primo punto dice non esagerare con mascherine e gel assolutamente sì l'hanno detto persone ben più esperte di me diciamo che mascherine e gel sono utili solo in determinate condizioni per il gel l'alternativa economica è il classico acqua e sapone il consiglio che danno le autorità sanitarie è quello di lavarsi spesso le mani quei gel disinfettanti sono utili solo in condizioni particolari e quindi questa corsa smodata a svuotare supermercati è abbastanza insensata è abbastanza insensata ma io in questo senso voglio sentire anche tondelli cioè noi abbiamo cominciato ormai da giorni a consultare esperti a chiedere opinioni anche perché nessuno di noi fa il virologo io insomma il massimo che posso fare è seguire le notizie e provare a raccontare le cose che succedono e quindi mi affido a chi ci capisce qualcosa di più e mi faccio consigliare ed è dal principio che ci dicono guardate che le mascherine non servono a nulla persino negli ospedali abbiamo sentito pregliasco dire sì può essere al limite una cosa è per una persona immunodepressa con dei problemi ma insomma non servono e però c'è la corsa alle mascherine allora cos'è che non funziona tondelli beh un po' i buoi sono scappati da tempo nel senso che è nel senso che comunque soprattutto diciamo nel cortocircuito tra media e politici di ogni colore grado e di ogni in ogni ruolo di responsabilità opposizione c'è stata prima una corsa diciamo molto forte all'allarme quando si alza così tanto la temperatura dopo andare a spiegare esattamente nel dettaglio i numeri diventa complicato perché a quel punto la paura è un sentimento che tende a ascoltare solo chi la conferma e non chi razionalmente cioè se hai appiccato l'incendio poi è complicato poi spegnerlo diventa complicato non sai che direzione prende anche in qualche modo c'è anche è stupefacente e colpisce questa cosa ma c'è anche la sensazione che in buon in pezzi importanti della popolazione della società ci sia anche una voglia un po' di vivere una paura di vivere un'emozione particolarmente spiccata e quindi ripeto di cercare confronto nelle voci che a vario titolo in varie posizioni confermano la paura confermano quella paura poi dopo sicuramente ero un po' scettico su quest'ultimo passaggio di Tondelli però prego io volevo dire una cosa noi nel servizio dei poveri a tavola siamo obbligati a mettere i guanti non troviamo più i guanti non sono più in commercio non ci sono più compiliti non sono le mascherine non sono le mascherine ma anche i guanti non li abbiamo più e compulsivi devono saperlo che prendendo quei guanti che a loro stanno creando un danno a chi ha le persone che ne hanno bisogno per davvero questo è impossibile lo devono capire i poveri senza i guanti però secondo me diciamo così è molto facile prendersela con chi va a far la corsa al supermercato chi fa la corsa di guanti la scorta di amuchina ma le responsabilità sono primariamente nostre nostre di chi fa informazione di chi fa politica che tipo di informazione fanno le istituzioni però innanzitutto diciamo dire oggi che è un'influenza un po' più robusta che solo in caso di margini dopo che mi hai detto che eravamo one sì sono d'accordo voglio sentire per favore Tarantino che abbiamo ancora due punti il secondo punto è non correre al supermercato lo citava adesso Tondelli prego Tarantino assolutamente diciamo che qui a Milano nel weekend abbiamo visto questa corsa al supermercato a comprare anche delle cose assolutamente non necessarie l'acqua in bottiglia carrelli pieni di acqua in bottiglia non ce n'è bisogna a Milano l'acqua è buona e lo dice lei Tarantino chi lo sa se il virus arriva dall'acqua perché sa che poi girala qualunque ce ne abbiamo sentito qualunque cosa prego prego continui pure Tarantino ovviamente no era una sciocchezza che girava e c'è qualcuno e c'è qualcuno che se ne approfitta mette in giro voci false nel frattempo abbiamo assistito a delle scene davvero da guerra da inizio di guerra e quindi il consiglio noi almeno ci proviamo come organizzazione di consumatori è quello di dire alle persone attenti non siamo di fronte a una guerra siamo di fronte a una situazione evidentemente rischiosa ma attenzione a questa corsa e attenti alle truffe perché poi in questo momento in momenti come questi i truffatori proprio stanno lì che si fregano le mani perché dicono tocca a noi tocca a noi grazie a tutti gli ospiti per essere stati con noi andiamo in pubblicità ci vediamo tra pochissimo grazie a tutti grazie a tutti per i colleghi e mani Grazie.